Oggi abbiamo in questa terza sessione il piacere di ospitare il procuratore nazionale antimafia Grasso, che come dicevo è in arrivo. Abbiamo Beppe Lumia, onorevole, già presidente della Commissione Nazionale Antimafia, grande conoscitore dei temi che affronteremo in questa sessione. Abbiamo Don Tonino Dall'Olio, coordinatore nazionale di Pax Cristi, il sindaco di Mesagne, Mario Sconosciuto, Mesagne è un territorio che in questi anni ha fatto un lavoro straordinario sul recupero dei beni confiscati dalla mafia. Abbiamo Alessandro La Terza qui con noi, posso dirlo Alessandro, candidato unico alla presidenza provinciale dell'Associazione degli Industriali di Bari. Abbiamo il presidente di Antigone, Patrizio Connella, al quale immediatamente cedo la parola e diamo avvio ai lavori. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Il mio ruolo è introduttore, quindi sarò breve, cercherò di porre alcune questioni e vediamo se su queste questioni riusciamo a costruire un dibattito che ricordo riguarda imprese e legalità per un'economia di qualità. Aveva anche un sopratitolo contro la corruzione, le mafie, l'evasione fiscale. Vi leggo ciò che poi vi dico chi lo scrisse nel 1993. Forme di corruzione diffusa nei rapporti tra imprese e sfera pubblica hanno gonfiato la spesa, leso il buon funzionamento del mercato, ostacolato la selezione dei fornitori e dei prodotti migliori. L'entità di questa tassazione impropria che da ultimo ricade sui cittadini è di una gravità che sgomenta. Antonio Fazio, governatore della Banca d'Italia, lo disse nel 1993. Questa è un po' la parabola del nostro paese, dove tu nel 1993 eri assertore di una economia di qualità e, diciamo, mentore del sistema anticorruzione, poi nel 2005 finisci a dover sottrarre una macchina blu per poter continuare a fare l'ex governatore della Banca d'Italia. Diciamo che il tema corruzione e mafie in Italia è un tema che ha grande capacità di espansione di studio. C'è chi anche ne è contento, ossia, devo dire che i nostri criminologi, i nostri sociologi hanno una possibilità di studio e di analisi che non hanno i loro omologhi negli altri paesi. C'è Vincenzo Ruggero, che è un famoso criminologo che da anni studia, da ogni studia insegna, alla London School of Economics, che ci dice, lui è un grande studioso di criminalità dei colletti bianchi e degli intrecci fra criminalità organizzata e criminalità finanziaria, ci dice che quanto all'Italia vorrei concludere con una nota di ottimismo ironico, è vero che la maggioranza dei reati dei potenti posseggono un tratto che li accomuna, ovvero sono animati dal tentativo di non apparire come reati. In Italia però ne vengono compiuti quantità e varietà talmente elevate e ampie che chi li commette ha smesso da tempo di celarne la natura apertamente criminale. I colletti bianchi italiani rivendicano il diritto a delinquere e propugnano la legalizzazione delle proprie condotte illegittime. In quanto studiosi, noi criminologi, sociologi, siamo però fortunati. Nessuno potrà dubitare delle connotazioni di etiche delle nostre ricerche, in quanto i fenomeni descritti non sono criminali. I colleghi all'estero ci invidiano perché il carattere torrenziale dei reati, dei colletti bianchi commessi in Italia, che pure rende le nostre classi dirigenti grottesche e spregevoli persino agli occhi dei loro pari stranieri, fornisce a chi vuol fare ricerca una gamma infinita di possibilità. Ricerca qualitativa e quantitativa per settore fatti specie, per area geografica e gruppo familiare, ricerca genealogica e diacronica, campionatura strati a grappoli, ricerca sincronica e longitudinale e una manna per noi studiosi la situazione italiana. Ecco, diciamo che non so se è una manna per tutti, sicuramente però esiste una grande mole di materiali, una grande mole di materiali su cui indagare e su cui non è detto che si sia indagato, quando parlo di indagine, adesso non mi riferisco necessariamente all'indagine della magistratura, ma all'indagine sociale, all'indagine politica, agli intrecci, agli intrecci che esistono fra criminalità mafiosa, fra criminalità finanziaria e fra gestione politica della criminalità mafiosa e gestione politica della criminalità finanziaria. Cioè ci si domanda, la mafia è bianca? Cioè la mafia è solo nera, è solo criminalità nera? O la mafia è anche criminalità bianca? La mafia è anche quella dei colletti bianchi? Uno studioso di mafia del 1876, si chiamava Franchetti, allora definiva i mafiosi come facinorosi della classe media, ossia questa iconografia del mafioso che è diciamo uomo di bassa cultura e l'iconografia del corruttore che è uomo di media alta cultura oggi probabilmente viene meno, non risponde più diciamo a quella che è la loro giusta identificazione. Un po' le situazioni si confongono, a volte si intrecciano e quindi diciamo può capitare che ci sia un interesse comune, un interesse comune fra organizzazione criminale di stampo mafioso o comunque quelle diciamo omologhe, Camorra, Andrangheta, Sacra Corona Unita e pezzi di criminalità finanziaria, quindi pezzi di imprenditorialità e dall'altro pezzi nel mondo politico, che però sono tre cose diverse, cioè è qui in questo caso è più facile, è più facile l'indagine sociale, forse è anche più facile l'indagine della magistratura, quando il politico non coincide con l'imprenditore, l'imprenditore non coincide con il mafioso poi può capitare che invece le tre figure si intrecciano e si confondono l'una nell'altra e quindi contemporaneamente l'imprenditore è anche lui un corruttore che è parte di un sistema di criminalità organizzata e arriva ad un certo punto in cui non si fida più del politico, anche del politico amico e scende in campo e quindi diciamo evita l'appalto, perché ovviamente è più difficile nel momento in cui non c'è materialmente l'appalto da tizio a caio, ma tu sei politico che gestisci direttamente, non hai bisogno di appaltare il tutto, ovviamente è più difficile da indagare, è più facile da gestire. Diciamo che questo quando accade ovviamente è una pietra tombale su quella economia di qualità, su quella impresa di qualità di cui noi oggi dovremmo parlare, cioè quando si arriva addirittura alla coincidenza, alla coincidenza del corruttore, del mafioso e del politico. Ora dobbiamo capire qual è il contesto in cui ci stiamo muovendo in questo determinato momento storico. Abbiamo superato la mafia stragista, sembrerebbe, non c'è più quantomeno visibilmente la mafia stragista, quella del 91, 92, 93, quella che ha prodotto la legislazione speciale antimafia degli anni 91 e 92, quella che ha prodotto l'inasprimento del sistema penitenziario. Non sembrerebbe che quel tipo di mafia, quando quantomeno rispetto, diciamo, agli epifenomeni che sono le stragi mafiose, non ci sia. Che mafia c'è? Ci sarà probabilmente, sicuramente, una mafia rinvigorita su altri settori e quindi sicuramente una mafia che gestisce pezzi, pezzi della finanza. Contemporaneamente abbiamo avuto, diciamo, un sistema che io definirei tangentopolaro-carsico. Cioè, in realtà, è vero che l'epicentro di tangentopoli è stata Milano nei primi anni 90, ma è anche vero che il sistema delle tangenti è rimasto un sistema carsico che riemerge, si rinasconde, riemerge, si rinasconde e poi si confonde, diventa aggiottaggio in alcuni casi, si riconfonde e diventa speculazione finanziaria senza limiti e senza decenze, come è successo nel periodo che abbiamo visto di, appunto, che citavo Fazio all'inizio, della questione delle banche, però ci chiediamo, ci chiediamo oggi, visto che non c'è la mafia stragista, o almeno non si vede, perché non ci sono le stragi di mafia, o quantomeno gli uomini che contrastano la mafia, adesso, diciamo, c'è stato ovviamente l'omicidio fortunio, quindi, diciamo, con la parentesi fortunio, io non sono un esperto di mafia, quindi, diciamo, potrò dire delle imprecisioni, con la parentesi fortunio, però non ci sono state le stragi di mafia, allora bisogna indagare se esiste un'altra mafia, se quest'altra mafia ha dei legami con il mondo finanziario, e nell'ipotesi in cui ciò sia, diciamo, ciò sia questi termini, questa è poi una sollecitazione che io rivolgerò principalmente all'onorevole Lumia e al procuratore nazionale Grasso, ci si chiede se in realtà è ancora, ancora senso quella legislazione speciale antimafia, cioè se quella legislazione speciale antimafia degli anni 91, 92, 93, non era una legislazione speciale pensata contro un certo tipo di mafia, contro una mafia che assomigliava non alla criminalità bianca, ma alla criminalità nera, perché era una legislazione che puntava, diciamo, sul, puntava a disarticolare organizzazioni criminali di tipo diverso da quelle che noi ci possiamo immaginare quando agiscono sulle borse. Allora, io sono, su questo probabilmente troveremo anche punti di disaccordo, un cultore del diritto penale ordinario, quindi mi piacerebbe che in un paese civile non ci sia bisogno di una legislazione speciale antimafia, e che le mafie si possano trattare con le armi del codice penale, come le armi del codice penale ordinario, diciamo, come avviene in un paese liberale, dove c'è il reato di omicidio, se tu ammazzi sei sanzionabile per omicidio, dove c'è il reato di rapina, se fai la rapina sei, se la fai in tre, c'è il concorso di tre persone nel fare la rapina. E quindi, diciamo, l'associazione delinquere di stampo mafioso è un esempio di legislazione speciale. Ora, storicamente, nessuno di noi se la sente di dire che, diciamo, dobbiamo tornare al diritto penale ordinario, perché di queste mafie ci abbiamo il ricordo, e ci abbiamo il ricordo che è un ricordo presente nella nostra memoria, anche con, diciamo, un ricordo molto tragico. Allora io mi chiedo, se noi decidiamo di non tornare al diritto penale ordinario, a ritenere che tutto sia possibile trattarlo con gli strumenti del diritto penale, quello classico, quello che una legge si fa e si pensa per chiunque commette il reato. Allora, a questo punto, non è il caso di rivedere quella legislazione speciale antimafia, tenendo conto che le legislazioni speciali si muovono nella contingenza storica, in quella contingenza storica trattano, diciamo, trattano quella criminalità di quel momento, e che probabilmente quella legislazione speciale antimafia era pensata per una mafia stragista, e oggi c'è una mafia invece che si connota e si confonde con il sistema diffuso di corruzione, quindi probabilmente ci sarebbe necessario uno strumentario di interventi differenziati e non solo più strettamente penitenziari. Questo è, diciamo, una domanda, non è una certezza, però io su questo e sulle sollecitazioni precedenti cercherei di sollecitare il dibattito di oggi. Ringrazio Patrizio Connella, non soltanto perché è un amico, ma lui ci è presentato come un non esperto di mafia, però ha introdotto così tanti temi, credo che il dibattito... Non aggiungo altro, se non un ringraziamento agli organizzatori del Fondo di Sbilanciano, e a Giulio Marcon, perché di questi temi in Puglia non si parla quasi mai di mafia in Puglia, ed è un'occasione importante parlare di queste cose in Puglia. La parola all'onorevole Lumia. I lavori proseguiranno, lo dico per tutti, l'onorevole Lumia, poi Don Tonino Dall'Olio, poi il sindaco di Mesagne, Alessandro III, e chiuderà il proprio reo antimafia. Intanto vi ringrazio, sono molto contento per due motivi. Il primo motivo perché, ho visto dal programma dei lavori, c'è una riflessione molto seria che sta cercando di fare un salto di qualità sul piano progettuale, che è un ingrediente necessario oggi all'interno di quel pensiero critico nella società italiana che più volte stenta ad emergere, o quando emerge, stenta ad essere rappresentata nel modo più adeguato e più forte possibile. Il secondo motivo è perché, all'interno del pensiero critico, dei pensieri, dei saperi, delle esperienze, spesso il versante dell'antimafia viene trascurato. Sul versante dell'antimafia non ho visto in questi anni la stessa attenzione che c'è stata su grandi altri temi che attraversano e che mettono in discussione la storia non solo del nostro Paese, ma dell'Europa e della stessa umanità. se hanno delle difficoltà, proverò anch'io un po', così attraverso le questioni che mi sono state sollevate, a cercare anche di dare una piccola, un tentativo di piccola spiegazione. Scusate. Prego. Tenterò anch'io. Allora, tenterò anch'io di dare qualche piccola spiegazione per evitare appunto che il pensiero, la progettualità antimafia, sia ancora vissuta come una riflessione, una progettualità periferica dei grandi temi che oggi nella società italiana e anche nei mondi vitali, nel mondo dell'associazionismo, del volontariato, degli organismi non governativi, va avanti. Prima questione che vorrei affrontare, una prima risposta quindi che diamo alle provocazioni, che ringrazio perché sono buone provocazioni, che sono state poste. Le mafie, quindi intanto cominciamo a usare questo termine al plurale, non esiste più una singola mafia. Esistono oggi in Italia e nello scenario internazionale tante organizzazioni mafiose. Naturalmente nel nostro paese hanno una loro peculiarità, storicità e una radice molto più forte. Allora, utilizziamo questo termine al plurale e guai a vedere solo un lato delle mafie. Dobbiamo vedere tutti i lati che compongono il sistema mafioso. Se guardiamo, osserviamo solo un lato, rischiamo di fare delle analisi che guardano all'emersione o alla sommersione di quel lato. Guardiamo solo il lato militare, identifichiamo le mafie solo col dato militare, qualche volta storicamente questo lato è marginale e pensiamo che le mafie non ci sono più. Qualche altra volta questo dato invece emerge con forza, le stragi, e pensiamo che le mafie sono forti, onnipotenti. Questo è un errore che non dobbiamo fare. Le mafie sono un sistema che hanno diversi lati. Hanno un lato militare, rispondo, che non è andato in cantina, che non è a riposo, che non è stato messo da parte. C'è, ma viene utilizzato in modo diverso rispetto al passato, ma rimane. E guai a quella democrazia, a quel paese che non è in grado di affrontare questo versante. E dirò pure qualcosa a questo proposito. Poi c'è un lato sociale. Questo è poco indagato, poco conosciuto, molto svilito. Sembra che non esista. C'è anche questo versante sociale. Le mafie ancora oggi, in diverse parti del nostro territorio, sono in grado di gestire bisogni, di orientare comportamenti, di regolare sistemi di relazione. Allora, anche qui, questo è un lato che vediamo poco, per cui raramente siamo in grado di organizzare un'antimafia che è in grado anche di rispondere a questo versante. Devo ringraziare, da questo punto di vista, molto libera e da altre organizzazioni, che in questi anni hanno spinto e rispinto, sollecitato e risollecitato, anche con delle esperienze che vanno al di là della semplice riflessione, ad esempio intorno ai beni confiscati e al lavoro educativo strutturato e progettuale nelle scuole, che hanno reso evidente anche a chi gli occhi li vuole tenere chiusi e le orecchie ben tappate che esiste una questione sociale nella lotta alla mafia. C'è poi un versante, un lato dei sistemi amafiosi che è quello economico-finanziario. Ecco, questo versante era anche questo un versante molto trascurato, negli ultimi vent'anni è cresciuto di molto. L'attenzione sul versante economico-finanziario, soprattutto nel campo dei sapere, è molto forte, anche alcuni strumenti normativi si sono organizzati per rispondere e colpire, prevenire il versante economico-finanziario, ma rispetto alla capacità di accumulazione delle mafie, di accumulazione, di produzione, di ricchezza delle mafie, siamo ancora a grattare la superficie. Non siamo ancora, né in Italia né nella comunità internazionale, non siamo stati in grado ancora, da questo punto di vista, di affondare colpi adeguati alla loro potenza economico-finanziaria. C'è il versante politico-istituzionale. Naturalmente quando si tocca questo tasto si tocca fili elettrici, filo spinato, si rischia di rimanere colpiti violentamente. Anche questo è un lato che fa parte del sistema delle mafie, è un lato fortissimo, ben organizzato, strutturato, che si evolve, ma che c'è sempre stato nella storia delle mafie. Anche su questo dobbiamo fare una riflessione, organizzare una progettualità molto forte, molto qualificata, e ci sono delle proposte che vanno in tale direzione. Naturalmente tenuto conto anche delle trasformazioni del rapporto che le mafie hanno con la politica e con i poteri. Io provo a riassumerne un aspetto di questa trasformazione che colgo anche nel lavoro di questi mesi e di questi anni. Quindi il sistema delle mafie, che è fatto di tutte queste componenti, di volta in volta sceglie qual è il lato più conveniente da mettere avanti. Qualche volta è il lato militare e quindi il sistema che rimane con tutte quelle componenti spinge in avanti il lato militare. Qualche altra volta, in base alla repressione dello Stato, in base alla consapevolezza della società, al sistema della trasformazione della società, fa avanzare quello economico-finanziario, qualche altra volta quello sociale, spesso e volentieri quello politico-istituzionale. Un punto di trasformazione è quello del rapporto con la società e con i poteri che sempre più le mafie preferiscono non affidare a delle mediazioni e piuttosto fanno avanzare il meccanismo che io chiamo della rappresentanza diretta. Sta qui un elemento di profonda preoccupazione. Storicamente le mafie hanno sempre utilizzato questi due modelli di rapporto con la società, con i poteri e con le istituzioni. Spesso hanno utilizzato appunto rapporti di mediazione. Il politico è il politico, l'imprenditore è l'imprenditore, con la loro sfera di autonomia, di crescita, di legittimazione. Il bosso mafioso è bosso mafioso con i suoi meccanismi di crescita, di selezione e di legittimazione. Si incontrano a metà strada sul sistema degli appalti, sul riciclaggio, sul controllo di alcune forme di economia illegale o legale, la droga o altri meccanismi. Possiamo dire che l'archetipo, se stiamo all'esempio politico, di questo rapporto è stato storicamente Salvo Lima. Un politico che aveva una sua sfera di autonomia, che era cresciuta all'interno del sistema politico, che si incontrava a metà strada scambiandosi favori, impunità, affari con i bosso del sistema politico. A un certo punto salta questo equilibrio, il meccanismo della mediazione salta e Cosa Nostra decise di colpirlo. E decise di colpirlo, pensate un po', dopo la cosiddetta sentenza in Cassazione del primo Max Processo, che arriva a conclusione a gennaio, il primo mese del 1992. Quando arriva questa sentenza, la mafia va in crisi. Perché? Salta per la prima volta nella storia del nostro Paese. Pensate quanto è importante l'aspetto penale. per la prima volta nella storia del nostro Paese salta il meccanismo della impunità. Storicamente nel nostro Paese il principio di responsabilità, punibilità non si era mai esercitato nei confronti delle organizzazioni mafiose. Salta questo meccanismo, lo fece saltare appunto il pull antimafia di allora, quel lavoro, con in testa Falcone, Borsellino, con quel lavoro, con anche il procuratore Grasso, che fu proprio giudice all'atere di quel max processo, salta questo tassello ed entra in crisi sul rapporto non solo con il penale in senso stretto, con la dimensione repressiva in senso stretto, ma salta il rapporto con i poteri, con la politica e con le istituzioni della nostra società. Perché il principio di impunità per la mafia insieme al principio di omertà e di segretezza erano tre aspetti fondamentali che caratterizzavano il loro poi modus operandi e quindi anche lo scambio che esercitavano con le classi dirigenti che via via si alternavano alla guida del nostro paese. Salta questo meccanismo, la mafia punisce chi si era fatto garante dell'equilibrio che si era realizzato intorno a quegli anni. E così avviene anche col mondo dell'economia, dell'impresa. Storicamente la mafia nei confronti dell'impresa aveva un rapporto tra virgolette parassitario. Si chiedeva la tangente, gli si faceva pagare il pizzo, fai un appalto, una percentuale me la devi dare, apri un negozio, mi devi pagare ogni mese o secondo i territori e l'evoluzione ogni sei mesi durante le feste una quota che deve essere destinata all'organizzazione mafiosa. Quindi un rapporto parassitario con un rapporto invece di produzione diretta di economia nel campo delle droghe e quindi nel campo dell'economia più illegale e più diciamo così lontana da alcuni meccanismi di organizzazione del mercato. Storicamente invece la mafia via via si è fatta imprese e quindi ha saltato il meccanismo di rapporto parassitario e ha cominciato a organizzare direttamente delle proprie attività economiche non chiedendo quindi più solo semplicemente una percentuale ma chiedendo di entrare direttamente nel circuito della produzione di beni e servizi e di gestione degli appalti. Quindi salta il meccanismo della mediazione subentra il meccanismo della rappresentanza diretta e così anche sul piano sociale sul piano politico istituzionale l'ultima inchiesta che c'è stata chiamata operazione Gota cioè il Gota di Cosa Nostra che si riuniva fino a pochi mesi fa e pianificava la stagione ultima di Cosa Nostra già nel 2005 stavano organizzando quale consigliere comunale doveva essere immesso nel circuito istituzionale di Palermo con elezioni che si faranno il prossimo anno e stavano anche pianificando chi doveva essere inserito nelle elezioni provinciali del 2008 perché già nel 2005 il livello nazionale e regionale che si sono svolti poi nel 2006 l'avevano già ben pianificato e nel guardare questa pianificazione se andiamo a vedere la tipologia dei soggetti che pensavano di inserire è una tipologia che non è più appunto quella della mediazione ma quella della rappresentanza diretta cioè sempre più le organizzazioni mafiose diffidano e si fidano meno dei rapporti di collusione e sempre più chiedono una pressione diretta all'interno delle istituzioni con propri uomini o con persone di elevatissima fiducia ecco perché non dobbiamo mai cadere nell'errore di pensare che per combattere la mafia colpendo un lato si colpiscono tutti i lati non esiste una ricetta un'ipotesi una soluzione messianica una moderna buona antimafia deve essere capace di fare sistema e di colpire tutti i lati dei sistemi mafiosi se colpiamo un lato e ne trascuriamo un altro lato le mafie sono in grado di riprodursi certo se abbiamo solo e deleghiamo solo tutto al sistema penale preso un capo provenzano facilmente le organizzazioni mafiose nonostante il colpo che hanno subito che li mette in crisi però nel giro di pochi mesi di qualche anno sono in grado appunto di rigenerarsi di selezionare i nuovi capi i nuovi gruppi dirigenti e di riproiettarsi nelle trasformazioni della società ma se lo trascuriamo e andiamo su altri versanti senza tener conto di quel versante rischiamo di fare lo stesso errore ecco perché una moderna antimafia deve essere capace di colpire tutti i lati della organizzazione mafiosa visto che siamo più sul versante economico mi premeva mettere in discussione insieme a voi riflettere su un rapporto che si è venuto a creare in Italia soprattutto negli ultimi anni che è stato un po' anche il viatico per la crescita del sistema mafioso sul versante economico anche sul versante sociale e molto sul versante politico che hanno reso in qualche misura non necessario mettere avanti il lato militare ed è il rapporto legalità e sviluppo per molti anni cosa si è teorizzato nel nostro paese si è teorizzato che l'illegalità prodotta da quote di illegalità prodotte all'interno del mercato e nel rapporto tra consumatori cittadini e istituzione ad esempio sul versante fiscale e così anche su altri versanti pensiamo al falso in bilancio al rientro dei capitali illegalmente portati all'estero quote di illegalità inserite all'interno dell'economia potessero liberare risorse per lo sviluppo sono stati anni in cui si è tambureggiato nel nostro paese su questo versante pensate un po' quella legge che istituzionalizzava l'illegalità rientro dei capitali illegalmente portati all'estero una cosa che nel campo della teoria generale del diritto degli ordinamenti democratici dovrebbe fare inorridire quindi una cosa che tu già per legge riconosci che sia legale la fai diventare una grande risorsa quindi rientra dai capitali all'estero qual è la motivazione forte perché si libereranno investimenti per mettere in moto l'economia del nostro paese aboliamo il falso in bilancio perché così le imprese possono avere quel dinamismo quella velocità quella forza per produrre più ricchezza pensiato al sistema fiscale no? condoni a non finire e quindi anche lì forti quoti di legalismo nel circuito fiscale questo libera la possibilità di rimettere in circuito anche enormi ricchezze di investimenti allora nel nostro paese l'asticella della legalità si è abbassato di molto ma lo sviluppo non è vero che c'è stato questo binomio questa idea che è entrata nella vita delle famiglie degli artigiani di molti commercianti di molti imprenditori ma anche di molte mamme che nel mezzogiorno avevano i figli disoccupati e che negli studi ad esempio della raccolta del consenso elettorale davano con il loro apporto soprattutto a chi teorizzava questo tipo di rapporto sono state in modo vergognoso prese in giro perché è iniziato il flusso dell'immigrazione nel mezzogiorno oggi nel mezzogiorno si ritorna ad emigrare verso il centro nord del nostro paese e verso altre aree d'Europa e del mondo e quindi quel modello che aveva ottenuto grande consenso grande attenzione anzi in Sicilia ad esempio un isterico tifo si è tradotto non un beneficio per lo sviluppo ma anzi per un indebolimento dello sviluppo perché uno sviluppo oggi in sistemi democratici qualificati non possono basarsi su quote elevatissime di illegalità possono senz'altro contenere quote di illegalità pensiate al lavoro nero all'evasione fiscale ma quello sviluppo non fa il salto di qualità non è in grado di avere ritmi di crescita di espansione sociale democratica di allergamento della base occupazionale e quindi la qualità non è più un vincolo da imporre con forti dosi di dirigismo un vincolo da imporre con una forte azione coattiva ma diventa una risorsa che può convolgere e può trovare forte consenso in tutti gli attori sociali l'illegalità non conviene sempre a lungo andare non conviene per niente facciamo un esempio nel sistema degli appalti sistema degli appalti le mafie o direttamente o indirettamente sono dentro questo circuito pensiamo agli imprenditori onesti le mafie ti impongono quando tu riesci a superare mille ostacoli a vincere l'appalto dove prendere il ferro e il cemento dove prenderti tutte le forniture ma non solo ti impongono il fornitore ma ti impongono anche il prezzo ti impongono l'intermediazione ti fanno l'intermediazione di mano d'opera quindi ti impongono loro il personale spesso non lo mettono in regola quindi è previsto o non ti mettono in regola o quando ti mettono in regola ti danno semplicemente il 40-50 al massimo il 60% quello previsto nel contratto di lavoro la figura dell'imprenditore è finita perché il bravo imprenditore è quello che sa comunare i vari fattori sa valutare e fa emergere il rapporto qualità-prezzo non c'è bisogno di un bravo imprenditore a fare questo perché la mafia che ti dice il prezzo è questo non lo fa il mercato non lo fa l'imprenditore lo stabilisce la mafia il prezzo è questo e il fornitore è quest'altro c'è un impoverimento anche dal punto di vista dell'impresa non solo da un punto di vista sociale di chi è fuori dall'impresa dalla politica ma anche da un punto di vista dell'impresa delle sue qualità delle sue capacità della sua necessaria funzione di progettualità di costruzione dei fattori di produzione e quindi abbiamo spesso in molti territori un impoverimento da questo punto di vista e quando l'imprenditore scende a patti pensando di star bene col diavolo alla fine ne esce con le ossa rotte perché il sistema mafioso con quella proiezione sempre più diretta che vuole proporre fa gocita il sistema delle imprese naturalmente ci sono delle imprese che accettano questo tipo di rapporto strutturale e ne hanno convenienza allora dobbiamo spezzare questo meccanismo rendere inconveniente per le imprese vicino alla mafia o direttamente mafiose la possibilità di entrare dentro il circuito degli appalti e facilitare rendere conveniente incentivante l'impresa pulita che vuole fare qualità in questo circuito noi abbiamo avanzato un'ipotesi che abbiamo sperimentato in questi anni che ci rende più progettuali meno generici meno antimafia astratta e più capace di incidere nel corpo vivo degli interessi in questo settore ad esempio proponiamo attraverso i codici di autoregolamentazione prevedere nei bandi di gara quando si fa una scuola o un ospedale l'impresa si impegna a non pagare il pizzo se paghi il pizzo l'impresa deve essere esclusa con recissione in danno dalla stazione appaltante perché tu hai destinato una quota di denaro pubblico per fare la scuola l'ospedale la strada l'hai destinata all'organizzazione mafiosa quindi non ne devi solo rispondere penalmente prevedendo lì se esiste la fattispecie di reato di favoreggiamento verso la mafia oppure no ma deve rispondere economicamente eticamente alla stazione appaltante che ti ha affidato il compito di costruire e di fare quell'opera e per la prima volta soprattutto nell'antimafia recente si ritorna come avveniva nell'antimafia di fine ottocento di inizi del novecento quella contadina a mettere in contrapposizione l'interesse oggettivo dell'imprenditore con l'interesse oggettivo della mafia a confliggere perché l'interesse oggettivo dell'imprenditore va in conflitto in quanto se all'imprenditore gli si chiede solo di la boss mafioso gli chiede di pagare semplicemente il 3, 4, 5, 6 la percentuale che territorio per territorio cambia all'organizzazione mafiosa la soggettività dell'imprenditore è debole e acquiescente rispetto all'oggettività del sistema impresa e paga se invece l'interesse oggettivo dell'imprenditore è quello di dire guarda boss mafioso io il 3, 5% te lo do ma se poi mi scoprono mi tolgono tutto l'appalto c'è un interesse oggettivo che porta a confliggere con l'interesse mafioso e quindi si possono mettere in contrapposizione questi interessi e lo Stato naturalmente a rafforzare l'interesse dell'imprenditore onesto creando sistemi di incentivi e di valutazione e anche di pena che è diversa semplicemente dal circuito penale prevedendo in questo caso la recissione in danno o in positivo prevedendo forme di incentivazione fiscale per quelle imprese appunto che stanno bene sul mercato non pagano il pizzo e che rispettano ad esempio i capitolati di gare i contratti di lavoro e tutto quello che si organizza nel circuito delle opere pubbliche questo è un percorso che ci fa dire come è possibile attrezzare oggi una moderna antimafia per non sottovalutare la capacità di penetrazione delle mafie nell'economia direttamente e per svincolarci da questo assalto che oggi nel sistema degli appalti è un assalto devastante molto presente nel mezzogiorno e sempre più sempre più si espande sta diventando anche un controllo su molte opere e grandi opere che si stanno anche realizzando in altre regioni cosiddette non tradizionalmente colpite dal fenomeno mafioso stesso ragionamento dovremmo fare sui beni confiscati sull'acqua rifiuti tanti settori che oggi sono attraversati da questa presenza devastante sull'acqua storicamente sempre ci sono state le mafie ma controllavano anche lì in modo paressitario l'utilizzo delle acque i pozzi se vuoi attingere devi pagare un pizzo oggi invece fanno imprese che si propongono nella privatizzazione del circuito dell'acqua di gestire direttamente questo servizio così avviene sui rifiuti insomma abbiamo una trasformazione da questo punto di vista preoccupante che trascure il lato il cosiddetto lato nero no lato nero c'è sempre perché al momento giusto quando non si può fare a meno quando il consenso la capacità di corruzione di minaccia di persuasione non raggiunge l'obiettivo ecco che viene utilizzato scende in campo anche il lato nero e quindi guai a noi a non tener conto che comunque il circuito mafioso ha sempre una pistola messa sul tavolo o puntato sulla testa dell'interlocutore lo esercita o non l'esercita secondo i meccanismi storici di convenienza o di persuasione di adesione che nella società si diffonde se passa il messaggio per fare le opere si deve convivere con la mafia il lato nero il lato militare non è necessario utilizzare se passa il messaggio con la mafia non si convive col lato nero col lato militare bisogna fare i conti perché non è scuso che la mafia reagisca e decida appunto di colpire e di reagire rispetto a una possibile reazione di libero grassi o di fortunio per citare quello che si è detto di altri soggetti che decidono di resistere se andiamo a guardare quello che succede nel nostro paese per stare a questo lato militare scopriremo che c'è una quantità di attentati che si realizzano nel nostro paese da far accapponare la pelle centinaia di amministratori di imprenditori in Calabria in Sicilia in Campania in Puglia o anche in altre parti del nostro paese sono colpiti d'atti gli incendiano il negozio gli fanno saltare in aria la macchina non tutti naturalmente questi reati sono riconducibili alle organizzazioni mafiose produttore grasso ma se dovessimo anche solo calcolare il 20% di queste azioni di chiara marca intimidatrice li potremmo ricondurre alle organizzazioni mafiose avremmo in Calabria in Sicilia centinaia l'anno di fatti di questo tipo siccome le fanno le organizzazioni mafiose non suscitano nessun allarme se lo dovessero ad esempio organizzare le organizzazioni terroristiche il nostro paese si fermerebbe scatterebbe l'allarme le migliori energie forze riflessione stampa il Parlamento si fermerebbe siccome lo fanno le organizzazioni mafiose non succede niente in questo momento a Gela dove c'è una reazione straordinaria di un sindaco di una società di imprenditori che stanno reagendo in queste ore in queste ultime settimane si sta mettendo a ferro a fuoco la città perché le organizzazioni mafiose all'inizio hanno subito l'azione delle istituzioni e della società civile poi si sono guardate un po' in faccia hanno visto che hanno diventato 25 gli imprenditori che hanno puntato il dito che hanno denunciato che hanno portato in tribunale i boss mafiosi e hanno deciso di passare all'attacco di contraattaccare e sono in questi giorni terribili terribili non vi immaginate quello che stanno combinando adesso ci andremo proprio giorno 5 saremo lì ho convinto il governo a occuparsi di andare a guardare quello che sta succedendo ma vi posso assicurare che la situazione è drammatica naturalmente il nostro paese preferisce parlare di Gela dei vecchetti che appunto ogni tanto parpeggiano che naturalmente è un fatto un po' particolare ma sta diventando un'attenzione su Gela di costume e non si preferisce parlare su Gela su quello che sta avvenendo su questo versante ecco perché ripeto noi dobbiamo avere questa lettura sistemica e questa capacità sistemica di intervenire e di colpire le organizzazioni mafiosi abbiamo tante ipotesi da questo punto di vista che potrebbero essere utilizzate licito per non dilungarmi ad esempio sul sistema degli appalti accanto a quella norma che dicevo prima potremmo ridurre il numero delle stazioni appaltanti in Italia ne abbiamo circa 30.000 potenzialmente non esiste già in partenza nessun controllo di legalità su 30.000 stazioni appaltanti comuni province asole consorsi non esiste la possibilità di poter fare un ottimo controllo di legalità se ne avessimo uno per provincia non dico che risolveremmo il problema nel modo più assoluto sarebbe da stupidi pensarlo perché la mafia potrebbe anche infiltrare quell'unica stazione appaltante però avremmo i numeri avremmo cioè le forze investigative gli amministratori la capacità di monitoraggio per fare un controllo di legalità molto più elevato rispetto a quello che c'è oggi che è quasi difficile da mettere su potremmo ad esempio organizzare una migliore legge sui beni confiscati fare tesoro dell'esperienza fatta per ottenere dei risultati che potenzialmente pensate sono straordinari in Italia abbiamo 6.500 beni confiscati alla portata di mano siamo riusciti a utilizzarne solo 2.200 in tre anni pensate un po' se riuscissimo a mettere a reddito tutte 6.500 beni e pensate un po' se nei circuiti della distribuzione potessimo inserire non con quel carattere stupendo che oggi abbiamo ma ancora un po' troppo episodico i beni dell'antimafia l'olio la pasta tutti quei beni di consumo prodotti dai terreni prodotti attraverso aziende confiscate dalla mafia tale da rendere milioni di italiani in grado di poter fare un gesto antimafia attraverso il consumo critico pensate che potenzialità enorme di cultura antimafia e di effetti anche sociali ed economici potremmo attivare in questa direzione l'anagrefe del conto e dei depositi adesso c'è l'anagrefe tributaria avete sentito con il decreto visco che è stato molto contestato aggredito noi adesso dobbiamo lavorare perché l'anagrefe tributaria diventi anche uno strumento messo a servizio dell'indagine antimafia perché oggi nel nostro paese se si vuole fare un'indagine bancaria bisogna aspettare un anno e mezzo informare tutte le banche tutte le filiari aspettare che ti rispondano e tutti lo vengono a sapere e voi sapete che l'opposizione all'anagrefe tributaria o all'anagrefe del conto e dei depositi è quella di dire che viola la privacy cioè si viola oggi perché con un'anagrefe ci sarebbe una chiave d'accesso bisogna che il giudice regola questo accesso e quindi ci sarebbero molte più garanzie rispetto a quelle che si hanno oggi però appunto questa cosa stenta a farsi perché i grandi interessi appunto su questo versante spingono in direzione apposta e quindi salutiamo con molto interesse questa anagrefe tributaria adesso dovrebbe essere raccordata e messa in condizione di essere utilizzata anche da chi appunto intende fare delle indagini patrimoniali pensate un po' se dovessimo utilizzare la legge Mancino voi sapete che dal 94 c'è una legge che obbliga i notai e segretari comunali a comunicare tutto quello che avviene nel proprio territorio trasferimenti di proprietà di licenze le mafie sanno quello che avviene sul territorio le istituzioni non lo sanno pensate un po' se si dovesse una volta a mese fare la mappatura dell'andamento delle trasformazioni sul proprio territorio per poter poi monitorare la parte del riciclaggio la parte dei prestanomi di quelle ricchezze facili che spesso producono anche forte investimento pensate un po' se facessimo un testo unico e così anche applicare le norme che l'ONU ha indicato agli stati nel 2000 quando fece per la prima volta nella storia di questo organismo una convenzione internazionale a Palermo sulla lotta alla mafia non per dare generici indirizzi ma per indicare tutta una serie di misure che gli stati membri dovrebbero adottare nella propria legislazione ad esempio per superare i paradisi fiscali i paesi offshore e quindi colpire quella parte di riciclaggio che non sta sul territorio ma che invece prende appunto sempre più quella direzione che sta diventando una direzione devastante ecco sono tutte misure che hanno appunto bisogno di una visione sistemica ed una progerità sistemica e la legge che non è speciale io la chiamo legge doppio binario c'è una legge che per farsi leggi norme che per potersi fare causarono la morte di molti uomini delle istituzioni più la torre si dannava l'anima a far capire che la mafia non è solo omicidio per cui bisogna colpire in modo ordinario l'omicidio la mafia è un'organizzazione a sé a prescindere dall'omicidio ecco perché deve avere il 416 bis il reato di associazione mafiosa che è un reato che innova la cultura della legislazione ma in positivo non in regressivo e che ti aiuta a capire che le organizzazioni mafiose hanno bisogno appunto di una legislazione diversa rispetto agli istituti storici dove si prevedeva ad esempio che la pericolosità era solo della persona oggi la pericolosità è delle imprese non è solo della persona e se noi dovessimo applicare gli istituti classici dell'ordinamento e del diritto penale noi sfuggiremmo a questa trasformazione da parte delle organizzazioni mafiose come potremmo fare a meno delle carceri del 41 bis quando l'organizzazione mafiosa dentro le carceri non mette la sua attività appesa al muro come fa il più afferrato rapinatore il più afferrato delinquente che può commettere il più afferrato diritto va in carcere per quel periodo appende la propria attività al chiodo l'organizzazione mafiosa va dentro le carceri e continua ad esercitare organicamente giornalmente e quotidianamente la sua attività e trasforma il carcere in una quota del suo territorio da controllare se non ci vai col 41 bis l'organizzazione mafiosa gerarchizza il carcere crea all'interno del carcere un dominio assoluto continua a trasmettere gli ordini esterni a dire chi ammazzare qual'appalto truccare chi votare e produce all'interno del carcere non più spazi di libertà ma più spazi ancora di repressione e di umiliazione della dignità del detenuto che deve servire il bosso mafioso lo scoprì Falcone e capì che bisognava rompere anche lì un'impostazione tradizionale da parte anche delle forze progressiste per evitare che appunto un'impostazione generica oppure antica della visione dell'ordinamento penale portasse a una subartenità di fatto degli interessi mafiosi dentro il carcere ecco perché dobbiamo guardare all'organizzazione mafiosa come sistema come un'organizzazione che prescinde dalle sue singole attività criminali e avere un'attività che sa colpire le organizzazioni su tutti i versanti e su tutti i lati e vi ringrazio per averci dato questa possibilità perché appunto oggi il versante economico sociale è quello su cui dobbiamo lavorare e su cui impegnare le nostre migliori energie ringrazio ringraziamo la programma per me sarà impossibile oggi moderare questa tavola rotonda perché immagino come si fa a bloccare un intervento di questo tipo cioè era impossibile chiedo però a tutti i relatori di autoregolamentare il proprio intervento ma per me sono convinto che saranno altrettanto interventi impossibili per me da fermare Don Trinio Dell'Olio esecutivo nazionale di Libera grazie per questa correzione ulteriore infatti mi ero preparato proprio a dire questo dopo essere stato per anni coordinatore nazionale di Paxisti sono qui invece come responsabile dell'area internazionale appunto di Libera e nell'introduzione mi ero preparato così un'annotazione che l'onorevole Lumia mi ha sottratto ma senza colpe né sul versante etico né su quello penale che fa parte di una riflessione integrante rispetto al tema che affrontiamo ovvero spesso si è considerato un po' l'economia illegale come una sorta di appendice no? o corollario rispetto alle riflessioni più globali più ampie che si fanno sull'economia sull'economia sulla mondializzazione sulla globalizzazione e man mano che conosciamo meglio il fenomeno e anche la portata dell'economia illegale ci rendiamo conto di quanto questa invece sia parte integrante sia uno dei pilastri su cui un'economia di ingiustizia più globalmente intesa si regge io non so se voi ricordate uno spot pubblicitario che si dice istituzionale perché non era di una marca che negli anni scorsi andava in onda sulle nostre televisioni che era quello delle borse gialle no? in cui una arrivava lì con una borsa gialla e l'altro gli diceva grazie grazie poi questa borsa gialla passava di mano in mano grazie grazie e lo slogan era l'economia gira l'economia gira ecco c'è una sorta di luogo comune a volte anche di un pensiero non detto per cui c'è quella economia illegale che è delle mafie che è sì illegale ma che muove comunque l'economia cioè anche con la mafia anche con il racket anche con il pizzo anche con gli appalti truccati in ogni caso la mafia muove l'economia e se muovere l'economia l'economia gira è cosa buona allora scusatemi passa il messaggio per il quale anche la mafia fa del bene alla società io ho sentito discorsi per i quali sì è vero che quei mafiosi chiedono il pizzo in quel locale però è altrettanto vero che quei soldi che cosa fanno probabilmente si andranno a comprare il caffè in quello stesso locale è sempre l'economia che gira e quindi va bene e quindi in qualche modo la consacriamo a tal punto che in maniera forte e autorevole io vorrei che non ce lo dimenticassimo è stato anche detto negli anni scorsi che con la mafia dobbiamo imparare a convivere che non è soltanto scusatemi un richiamo ad una sorta di rassegnazione per cui la mafia è un male indemico del nostro paese per cui non riusciamo a scrollarcela di dosso come una brutta malattia ma è che dobbiamo imparare a convivere perché evidentemente fa parte integrante di questo sistema e d'altra parte scusatemi ma in questa ottica Provenzano e Company non sono dei criminali fanno una sorta di economia fanno scusatemi hanno un progetto che adesso vedremo con particolare attenzione è comunque un progetto di economia l'unico problema semmai è che è un competitor no? è una sorta di concorrenza Provenzano tutto sommato dico Provenzano a livello simbolico sbaglia perché ogni tanto ci scappa il morto ci scappa la strage ma scusatemi ma quando parliamo di economia e parliamo di globalizzazione e quando sentiamo le cifre catastrofiche apocalittiche di Alex Zanotelli come successo ieri sera scusatemi ma questo sistema di globalizzazione altro che un morto è una strage gli scappa ogni tanto e quei morti del sud del mondo altro non sono che il naturale risultato prodotto di questa economia così come nelle stragi mafiose negli omicidi mafiosi quelli sono funzionali a quell'economia mafiosa oppure all'economia di sistema più globale guardate io penso che noi non dobbiamo dimenticare che le mafie di per sé non non agiscono per uccidere non è questa la loro finalità ma semplicemente per un duplice motivo finalità che è quello della ricchezza dell'arricchimento e dell'esercizio del potere spesso le due cose si incrociano e difficili anche era la grande intuizione a mio avviso di Piola Torre e di conseguenza anche di quella legge che non voleva più colpire il mafioso semplicemente sul piano della privazione della libertà con il carcere ma sul versante dell'arricchimento delle sue ricchezze trasformandole peraltro convertendole riconvertendo quelle ricchezze in un uso sociale per anni ci siamo illusi che la mafia potesse essere colpita soltanto con il carcere io che ho fatto esperienza di carcere il mio vescovo ebbe la buona idea di mandarmi in carcere per qualche anno nel senso di cappellano però e io rincontravo lì gente che diceva nel linguaggio mafioso che uomo sei se non ti fai almeno un giorno di carcere nella tua vita allora puoi dirti uomo e non solo era mostrato spesso come una sorta di lustrino come un merito come una medaglia io mi sono fatto sette anni di carcere tutti qui ce li ho ma in senso proprio di vanto quindi al contrario del linguaggio persino simbolico con cui noi potevamo pensare di affrontare le mafie al contrario le mafie no? le mafie consideravano anche il carcere che era l'unica forma di contrasto che in qualche modo noi opponevamo come addirittura un titolo di merito la mafia è una società per azione è una scusatemi è un'entità che 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 fa economia se dobbiamo dar credito ai ai dati di SOS impresa ai dati delle associazioni che lavorano in questo in questo campo soltanto nello scorso anno nel 2005 sono stati ben settantasette miliardi e ottocento milioni di euro quelli che la mafia ha lucrato nei settori dell'usura racket furti e rapine truffe contrabbando contraffazioni abusivismo pirateria informatica 77 in questi giorni e poi in maniera particolare stamattina abbiamo parlato della manovra economica del decreto della finanziaria di questo governo che era di 35 di 30 miliardi qui siamo a 77 miliardi e 800 milioni come fatturato annuo pari all'eni il doppio del fatturato della Fiat e dell'Enel dieci volte tanto quanto fattura in un anno la Telecom ogni giorno si calcola che siano 200 milioni gli euro che da imprenditori passano ai mafiosi e questo è un modo attenzione un approccio come dire classico in qualche modo anche un po' datato ma Lumia anticipava non è più soltanto il pizzo il racket e l'usura l'approccio della mafia all'imprenditoria è anche nell'imposizione dei fornitori che spesso sono appunto controllati o addirittura ditte di diretta emanazione delle mafie sono in posizione delle assunzioni o ancora di più si tratta di presenza della mafia appunto senza mediazione con proprie imprese e fortemente competitive come potete immaginare e non sono più nei settori soltanto degli appalti e dei servizi pubblici attenzione se il quadro è questo allora capite come sono datati anche certa cinematografia che ancora ci ripropone il mafioso con la coppola la doppietta la lopara no? cioè emerge qua una sorta di borghesia mafiosa di mafia come dire dalla faccia pulita che è fatta e impastata e imparentata e direttamente fatta di imprenditori di professionisti di amministratori e che se stanno nei settori classici dell'edilizia dello smaltimento dei rifiuti dell'autotrasporto delle risorse idriche attenzione delle risorse idriche poi hanno cominciato a penetrare anche in settori che possiamo considerare strategici come l'agricoltura il comparto ittico la commercializzazione delle carni la grande distribuzione il turismo c'è la confederazione italiana degli agricoltori la CIA che oggi parla di agromafia perché ormai ammonta a 7 miliardi annui il fatturato della mafia negli affari appunto dell'agricoltura e poi ci sono alcuni settori assolutamente nuovi come quelli appunto della contraffazione e della pirateria tanto informatica che audiovisiva attenzione e non so se è chiaro ma finora abbiamo parlato semplicemente di comparti e settori economici nostrani cioè del taglieggiamento degli appalti truccati se io invece dovessi raccontarvi quelli che sono davvero i settori di maggior reddito per le grandi organizzazioni mafiose e sono tutti temi internazionali sono i grandi traffici il traffico di droga innanzitutto il traffico di armi del quale ahimè che pari secondo tutte le statistiche gli studi le ricerche a livello internazionale è sicuramente al secondo posto segue spesso gli stessi circuiti del traffico della droga eppure di questo si parla pochissimo no? il traffico di droga il traffico di armi il traffico di esseri umani attenzione il traffico di esseri umani che è reso possibile in questo paese grazie alla collaborazione come dire oggi i mafiosi che chiaramente gestiscono questo traffico ringraziano soprattutto due personaggi che hanno firmato una legge che si chiama Bossi-Fini e grazie a questa legge che oggi è possibile come dire da parte delle mafie lucrare affari d'oro grazie al traffico appunto di esseri umani e poi se ne aggiungono tantissimi altri lo smaltimento dei rifiuti con le eco-mafie e poi persino pensate c'è una trasmissione che parla di natura e di animali che mi ha telefonato qualche giorno fa perché sta programmando per il prossimo anno la trasmissione Timbuk2 mi ha telefonato per il prossimo anno sta programmando una trasmissione sul traffico di animali esotici e razze in via di estinzione e io ho detto fatemi capire un attimo poi sono andato a guardare alcune ricerche alcune cose hanno ragione per il prossimo anno bisognerà fare perché la mafia ogni volta che c'è da lucrare a fare ogni volta che si scopre un settore redditizio nuovo state tranquilli la mafia è lì non è soltanto a brancaccio non sta controllando soltanto il quartiere di Scampia allora possiamo a tutto titolo parlare sì di un'economia illegale di un'economia mafiosa di un'economia che attenzione non aiuta a far girare l'economia al contrario è un'economia che inquina che sottrae che droga l'economia stessa e che arriva appunto ad uccidere l'economia altro di quelli che chiedono il pizzo e poi vanno a prendere il caffè nello stesso bar a cui hanno sottratto risorse in tutto questo scusatemi c'è sicuramente un ruolo che la politica deve giocare lo si diceva poco fa che la magistratura chiaramente per compito ruolo e vocazione starei per dire è chiamata è chiamata a giocare ma c'è anche un ruolo per la società civile guai a noi se pensassimo che anche nella riflessione sulla mafia sulle mafie così come spesso accade per l'economia ci troviamo di fronte ad una religione di cui non capiamo il culto e per cui non ci addentriamo in questo tempio no? siccome le prime vittime in tutti i sensi non soltanto di morti di mafia le prime vittime dell'organizzazione mafiosa ahimè appunto è la popolazione civile è la società civile stessa io penso che noi dovremmo dobbiamo sempre di più attrezzarci per dare delle risposte il più efficace possibile appunto al fenomeno al fenomeno mafioso e scusatemi da qualche anno eh proprio il circuito la rete di Libera in qualche modo è riuscita ad accendere i riflettori ma soprattutto a mettere insieme in rete tante piccole e grandi esperienze che andavano eh nascendo come risposta al fenomeno delinquenziale e che si muovevano in ambiti differenti ad esempio quella della gestione dell'uso e quindi dell'uso sociale dei beni confiscati ai mafiosi guardate io non so se eh noi eh abbiamo esattamente la percezione del significato oltre che della portata proprio concreta che eh il riuso sociale dei beni confiscati delle mafie poi di fatto ha cioè la ricaduta sia sul piano economico che su quello su quello sociale e poi su quello concreto appunto della sconfitta stessa che tutti auspichiamo delle eh delle mafie perché eh c'è questa questo questa storia dei vasi comunicanti che secondo me rende molto bene che il generale della chiesa aveva aveva intuito bene diceva per sconfondare da quando sono a Palermo dice mi accorgo con maggiore evidenza di quanto sia vero che se noi riuscissimo a garantire come diritto ciò che la mafia concede come favore avremmo posto avremmo dato offerto un contributo importantissimo nella sconfitta della mafia stessa e allora è come in un gioco davvero di vasi comunicanti quando diminuiscono i diritti aumenta la mafia e quando diminuisce aumentano i diritti la mafia davvero vede sottrarsi il proprio terreno ecco il riuso sociale dei beni confiscati ai mafiosi esattamente questo gli albori della sua nascita questa organizzazione libera appunto quando nel 95 nel 96 cominciava a balbettare cominciò appunto a proporre quella legge Rognoni la torre e con una raccolta di firme che arrivò appunto a un milione di firme propose al Parlamento che i beni confiscati ai mafiosi e ai corrotti inizialmente era così scusate ai mafiosi e ai corrotti poi passo soltanto la prima parte mafiosi ma comunque ai mafiosi e ai corrotti potesse poi essere appunto potessero essere utilizzati socialmente ma non come una sorta di beneficenza no ma davvero con una sorta di invece organizzazione in forme di cooperative di quei giovani che abitando proprio quel territorio potessero trarre vantaggio economico a cominciare dal proprio posto di lavoro no dalla propria occupazione coltivando quei terreni occupando quegli stabili mettendo a frutto appunto quegli stessi beni ma poi e quindi oggi è possibile trovare negli scaffali della copp la pasta l'olio eccetera io dico che quella è l'eucarestia dell'antimafia perché la puoi mangiare non so se ricordate ma c'era una canzone di Giorgio Gabber che diceva un'idea un pensiero un'idea finché resta un'idea è soltanto un'illusione se potessi mangiare un'idea avrei fatto la mia rivoluzione diceva così se non ricordo l'ho citata proprio bene sono contento di me stesso ecco quella canzone lì secondo me è messa in pratica dalla pasta di libera terra eh dal vino che si chiama placido rizzotto e dal nero d'avola che produrremo tra poco che si chiamerà a cento passi e che è una favola di vino questo è uno spot altro che economia che gira questo si è uno spot se anche il presidente della confindustria pugliese mi dà ragione sono proprio a cavallo quindi questa pubblicità nemmeno tanto occulta neanche occulta appunto è l'anima del commercio ecco è l'anima c'è questo c'è questo questo disco davvero lì si fa la rivoluzione davvero lì si fa la rivoluzione perché comincia a toccare con mano che è possibile sconfiggere l'antimafia te ne accorgi quando arrivi a Corleone dove l'abitazione di Totò Reina che era fatta con il ruscelletto all'interno la ringhiera di ferro battuto e le ringhiera si sviluppa su due piani con i cosi di massa i marmi bianchi per terra eccetera eccetera oggi è una scuola agraria e vedi sciamare di lì i ragazzi prima davanti a quella casa o non si doveva passare o si doveva passare con la testa bassa no? in segno di rispetto nei confronti del boss è un territorio che si riconquista i suoi spazi è un territorio che si riscatta per questo è l'eucaristia dell'antimafio comunque una rivoluzione che puoi finalmente che puoi finalmente mangiare in che cosa si è esercitato in questi anni la società civile? nell'uso dei beni conquiscati ai mafiosi e nell'educazione alla legalità anche qua scusatemi spesso quando si parla di educazione alla legalità uno dice ok insegniamo ai ragazzi a mettere il casco sul motorino e rispettare il rosso al semaforo perché questo è un esercizio importante perché loro poi trovo un ragazzo a scuola che mi dice sì ma quando io sarò grande siccome il casco mi dà fastidio mi farò una legge che mi dica che il casco sia opzionale no? e hai imparato la lezione delle leggi ad personam e allora io non posso più fare educazione alla legalità in questi termini su questa strada ma l'educazione alla legalità e questo è progetto è programma è quello che viene viene fatto appunto all'interno di questi progetti che stiamo attuando è ad esempio educazione all'uso del denaro perché se l'economia gira e se la playstation mi è dovuta e se la mafia scusatemi agisce esattamente per arricchirsi allora quella è una delle strade possibili per arrivare alla mia playstation l'uso del denaro abbiamo imparato in questi anni come società civili allora che per sconfiggere l'economia delle mafie non bisogna soltanto dire un no ma bisogna anche dire tanti sì nel senso di tanti per e l'esercizio più importante sarà prendetene nota lo dico a questo punto annunciandovi un appuntamento 17, 18, 19 novembre prossimi per la prima volta nella storia di questo paese proponiamo gli stati generali dell'antimafia perché scusatemi provate a vedere quanti film si sono fatti sulle mafie quanti libri sono scritti sull'agire delle mafie manca in questo paese una vera e propria radiografia storia un dar conto di quanti in questo paese si danno da fare si sono dati da fare e si danno da fare per contrastare sconfiggere la mafia ecco noi faremo gli stati generali a Roma 17, 18, 19 novembre prossimo dell'antimafia e chi vi partecipano? vi partecipa la società civile tutti quelli che vogliono ma poi magistrati forze dell'ordine ma anche perché no scrittori registi giornalisti vi partecipano educatori economisti sociologi ma davvero diventa più che un esercito oddio abbiamo il sospetto Beppe tu lo sai che vi parteciperà anche qualche mafioso si sono già iscritti è vero il procuratore Grasso sa che su ben due pizzini di Provenzano si fa menzione anzi si dice entrate nelle associazioni antimafia bisogna far parte delle associazioni antimafia e uno dei pentiti più recenti Francesco Campanella ama ripetere che quando Don Ciotti arrivava dalle mie parti non me ne perdevo nemmeno una di quelle conferenze ero sempre presente e lo stesso Campanella stava per portare in porto una di queste cooperative appunto che potessero in futuro gestire i beni che gli erano stati a lui ad altri appunto sottratti allora una mafia un'antimafia che non si fa soltanto dicendo no ma dicendo anche tanti per per un sapere questo sarà il il declinarsi di quel contro mafie che è il titolo degli stati generali dell'antimafia un per per un sapere di libertà che significa appunto questo lavoro di educazione ma anche di controinformazione di comunicazione un per che è per una domanda di giustizia in cui c'è davvero la folla delle vittime dei familiari di vittime la cui memoria vogliamo tenere viva ogni anno appunto con il 21 marzo in cui ci sono c'è il tema forte le vite dei testimoni di giustizia dei collaboratori di giustizia che in questi anni hanno contribuito in maniera determinante a far dei passi indietro alle attività criminali delle mafie per una dignità di cittadinanza in cui vogliamo parlare affrontare il tema della tratta degli esseri umani il tema dei traffici illeciti e quello della prostituzione per una politica di legalità in cui si dà conto finalmente tra poco sentirete Mario Sconosciuto di quanto anche gli enti locali in questi anni hanno prodotto hanno proposto hanno messo in atto per contrastare l'illegalità dilagante in alcuni territori è davvero con delle iniziative vincenti molto interessanti per una politica di legalità negli enti locali ma anche di legislazione che deve funzionare meglio e che dobbiamo proporre noi aspettiamo ancora questa legge quadro del contrasto alle mafie e poi per tutta l'azione che la magistratura e le forze dell'ordine mi avvia la conclusione stanno compiendo hanno compiuto in questi anni affinando moltissimo anche tutte le strategie investigative e di repressione del fenomeno mafioso per una economia di sviluppo ma inteso di eco sviluppo in cui si parla non soltanto dei beni confiscati e del riciclaggio non solo dell'usura del racket ma di come è possibile oggi contrastare le mafie orientando diversamente diversamente anche questa economia e infine appunto in cui gli stati generali dell'antimafia in cui si propone una internazionalizzazione anche della lotta alle mafie una mafia che ha imparato a stare a brancaccio come nella borsa a Londra deve trovare la possibilità anche che una società civile abbia la capacità di coordinarsi in rete sul piano internazionale perché ci sia scambio di esperienze per contrastare efficacemente le mafie e le sue connivenze e le sue contiguità e le sue coperture e le sue giustificazioni noi abbiamo abbiamo inaugurato un corridoio privilegiato con la Colombia dovete sapere che in Colombia i paramilitari che sono chiaramente intrecciati al narcotraffico hanno come capo indiscusso in Colombia un personaggio che ha un nome e un cognome si chiama Salvatore Mancuso in Colombia Salvatore Mancuso e Salvatore Mancuso ha usufruito di una legge in Colombia che gli ha garantito la completa impunità una legge che si chiama di giustizia e pace nella quale se uno confessa tutti i reati commessi e la magistratura nei sei mesi successivi non riesce ad individuare alcun altro reato non confessato lui ne esce pulito gli hanno fatto fare un discorso davanti al Parlamento e lì in quella sede lui si è vantato di controllare un terzo dell'assemblea parlamentare gli intrecci un intreccio così forte così intimo tra narcotraffico colombiano e mafie italiane l'andrangheta in maniera particolare io dal 9 al 22 di settembre sarò in Colombia laddove tra l'altro il procuratore di Grasso è già andato per un progetto interessantissimo con i magistrati colombiani perché accanto a queste tossine che si sviluppano nel corpo globale come dire dell'antimafia noi vorremmo immettere invece degli anticorpi salutari mettere in collegamento società civile con società civile esperienze con esperienze la Colombia ha una legge ad esempio per il riuso dei beni confiscati che non è mai stata messa in pratica quindi c'è uno scambio che può essere fecondo non è vero che la mafia che con la mafia siamo rassegnati a convivere io penso che e so che in questa sala lo pensiamo tutti che questa mafia possiamo sconfiggerla e che soltanto sconfiggendola davvero stiamo bene tutti da questa parte del pianeta ma anche dell'altra grazie bene grazie Don Tonio Dell'Olio Mesagne è una città simbolo in Puglia il sindaco attuale Mario Sconosciuto da 5 anni sindaco ma già precedentemente assessore ha vissuto un po' tutto il percorso di riscatto che ha vissuto e continua a vivere mesi anni con grande fatica la parola al sindaco Mario Sconosciuto grazie saluto tutti i presenti a questo incontro gli autorevoli relatori e anche gli organizzatori che mi danno l'opportunità di intervenire sicuramente per portare un'esperienza un'esperienza vissuta ormai da 10 anni prima come assessore poi come sindaco dal 2002 l'esperienza di amministratore locale in una città una piccola città di 30.000 abitanti che superando una naturale vocazione agricola e agroindustriale che pure l'aveva resa nobile nel corso della sua storia soprattutto fra gli anni 70 e 90 viene contrassegnata da fenomeni di macro criminalità attraverso la creazione di una delle più grosse organizzazioni criminali la Sacra Corona Unita il cui capo e fondatore era proprio un mesagnese nel corso degli anni la città ha saputo reagire a questa marchio infamante che l'aveva contraddistinta e ha reagito nella sua interezza in tutte le sue diverse espressioni così come avremo modo di vedere nel corso dell'intervento ma ha reagito soprattutto perché l'amministrazione comunale e le amministrazioni comunali con chiarezza hanno manifestato la volontà di prendere le distanze dalla criminalità e hanno detto da che parte stavano e oggi la città vive un momento di recupero un momento di riscatto e vive soprattutto questa esperienza su cui vorrò soffermarmi del rapporto con Libera che va ormai davanti dalla fine del 2002 e soprattutto sul riutilizzo dei beni confiscati due beni un immobile urbano e un fondo rustico che sono stati assegnati dal demanio dopo una lunga procedura che è durata diversi anni io ho fidato un po' per mantenermi nei tempi allo scritto alcune riflessioni su questa esperienza cercando un po' di rispettare anche i tempi che mi sono stati assegnati e cercando in poche battute di comunicarvi questa esperienza di cui come sindaco mi sento orgoglioso non per merito personale ma sicuramente perché rappresenta ha rappresentato un risultato per tutta la città la cultura della legalità emerge sempre di più come condizione indispensabile per garantire il buon funzionamento della società nelle sue molteplici dinamiche e più in generale per garantire la competitività del sistema sociale ed economico del paese del paese generale ma a partire dall'ente locale è necessario che cultura della legalità lotta alla criminalità impegno per la sicurezza dei cittadini contrasto all'evasione all'elusione fiscale siano posti al centro dell'iniziativa politica e dell'azione amministrativa ho vissuto nel 2002 un'esperienza che ho ereditato l'apertura di un grosso centro commerciale che per Mesagne diciamo era un investimento significativo e anche un momento importante e ho vissuto con molta attenzione questo momento perché un grosso investimento in un territorio piccolo come la città di Mesagne suscita attenzione interesse aspettative che possono portare anche a degenerazioni se non c'è una particolare attenzione abbiamo scelto per regolare i rapporti con questo investitore un strumento giuridico che è quello della convenzione una convenzione che da un lato garantisce l'amministrazione comunale in ordine alla tutela dell'imprenditoria locale ai livelli occupazionale a sconfiggere il lavoro nero alla valorizzazione dei prodotti locali attraverso per esempio l'apertura di una bottega artigiana all'interno di un centro commerciale e dall'altro però assicura anche il soggetto investitore rispetto a soggezioni interferenze o commissioni che potrebbero crearsi in questo momento l'ente locale deve essere quindi anche garante di condizioni di sicurezza in un territorio poiché la ricorrente presenza di eventi criminosi rappresenta un vero e proprio ostacolo allo sviluppo di attività produttive generando costi aggiuntivi per l'intera società la città che rappresento purtroppo ha vissuto questa condizione difficile con la preoccupazione per un territorio che non sempre ha saputo o potuto offrire garanzie di sicurezza di legalità e di ordine pubblico non solo agli imprenditori locali ma anche a chi da fuori veniva a investire nella nostra città e la città come vi dicevo ha subito il trauma della presenza di questa criminalità organizzata che con i suoi capi storici si era appropriata di spazi e di luoghi comuni sottraendoli ai cittadini e che al tempo stesso aveva marchiato negativamente anche l'immagine della stessa città più volte quotidiani locali e nazionali hanno definito mesagne il centro della mafia corleone della puglia ripetutamente e l'amministrazione comunale con coraggio e consapevolezza ma anche con il concorso di tutte le componenti della società ha deciso di reagire e nell'ambito dello svolgimento dei suoi compiti istituzionali tesi appunto a curare gli interessi della propria comunità e coordinare lo sviluppo è andata assumendo nel tempo un ruolo di riferimento importante nel sistema complessivo della tutela della sicurezza mettendo in campo risorse umane finanziarie e progettuali finalizzate proprio a politiche di intervento concrete ed immediate naturalmente una pubblica amministrazione non può e non deve agire da solo fortemente convinta che la tecnica della concertazione e della collaborazione fra enti associazioni forze dell'ordine e soggetti sociali sia il metodo di intervento più idoneo e che solo un patto tra le istituzioni pubbliche e il mondo dell'impresa e dell'economia può conseguire risultati efficaci nella lotta all'usura e nella illegalità questo percorso di riscatto della città sostanzialmente ha avuto tre momenti tre tappe fondamentali la prima tra gli anni settanta e gli anni novanta ha visto prevalere le forze criminali rispetto ad una società civile troppo sopita ancora troppo poco convinta di dover reagire con fermezza e anche ad istituzioni locali o meglio a suoi rappresentanti che non sempre con chiarezza hanno affermato da che parte si trovavano sono stati questi gli anni più brutti per la vita della città contrassegnati da un dissesto idrogeologico che ha visto lo spopolamento del centro storico ma cosa ancora più grave da una crisi morale culturale e sociale sono stati gli anni della macro criminalità con reati di traffico di stupefacenti con reati quali omicidi estorsioni molte attività locali sono stati costretti a chiudere e molte imprenditori locali sono rimaste vittime dell'estorsione sono stati credo questo decennio anzi questo ventennio gli anni più brutti per la vita della città una seconda fase gli anni 90 2000 caratterizzati dalla reazione responsabile della società civile delle istituzioni delle forze dell'ordine in un contesto in cui ciascuno ha svolto il proprio ruolo e si è impegnato per la rinascita civile e morale della città sono stati gli anni quindi della reazione della riappropriazione della rinascita del rinnovamento strutturale ed etico del recupero del senso di orgoglio e di appartenenza alla comunità che molti concittadini anche avevano perduto e avevano smarrito un'ultima fase dal 2002 in poi quella che stiamo vivendo in cui anche come sindaco della città mi sento partecipe compartecipe responsabile ha continuato questa fase a vederci coinvolti sicuramente in questa opera di riscatto e di rinascita che non si conclude che non si può concludere e che anzi deve avere anche degli obiettivi futuri ma al tempo stesso ci ha visto interessati a cercare forme nuove per esprimere con un impegno rinnovato l'impegno per la legalità e la sicurezza molto utile veramente in tale senso è stato il rapporto con l'associazione libera nel 2003 è stata sottoscritta una convenzione sostanzialmente con tre direttrici di intervento prima di tutto una forte azione di sensibilizzazione di tutta la cittadinanza era quello a cui faceva riferimento Don Tonio intorno ai temi della legalità e della lotta alla mafia con iniziative pubbliche determinate dalla presenza delle carovane nazionali antimafia delle carovane della pace ma anche da alcuni momenti ufficiali ad esempio per quanto riguarda la semina dei beni confiscati o la mietitura del grano come frutto del raccolto di questi beni confiscati momenti che hanno visto un coinvolgimento di tutta la città ma soprattutto del mondo dei giovani dell'associazionismo e delle scuole ancora questo rapporto con Libera la pubblicazione di uno studio scientifico sulla storia della criminalità a mesagne nel corso di questi ultimi vent'anni perché appunto sia gli esperti del settore ma anche quanti sono impegnati nella lotta alla mafia parlassero sulla base di dati concreti e di dati scientifici l'istituzione di un osservatorio permanente sulla legalità cioè una sorta di monitoraggio continuo in cui è presente un comitato tecnico di cui fa parte il sindaco ma anche altre istituzioni locali che consentono questo monitoraggio continuo di una situazione che non possiamo mai ritenere tranquilla perché anzi continuamente abbiamo piccoli segnali e allarmanti proprio di recente lo scorso mese di giugno intorno al 20-21 giugno un incendio doloso sul bene confiscato sul quale insisteva il grano che avremmo omietuto poi il 3 luglio e soprattutto in questo rapporto con Libera l'esperienza del riutilizzo dei beni confiscati abbiamo ottenuto due beni un bene immobile urbano si faceva riferimento prima a una villa non è una villa ma comunque un bel immobile urbano di circa 400 metri quadri che abbiamo assegnato ad una cooperativa giovanile che si chiama Allegra Compagnia e che ha la funzione rieducativa riabilitativa di reinserimento sociale di alcuni minori a rischio ed è proprio sito nel centro della città e poi un fondo rustico un immobile urbano di circa 20 ettari sul quale quest'anno per la prima volta abbiamo omietuto il grano che poi verrà commercializzato con i prodotti Libera Terra che intenderemo anche esporre in una specifica bottega artigiana all'interno del centro storico della città proprio per questa opera di comunicazione di sensibilizzazione di coinvolgimento della città e questo bene rustico che insieme ad un'azienda agricola un po' più ampia che si trova in un paese a pochi chilometri da Mesagne Tuturano di proprietà di un altro mafioso di grosso calibro della città di Tuturano di San Pietro veramente costituirà un'azienda agricola che verrà assegnata ad una cooperativa giovanile attraverso la costituzione di questa cooperativa con un bando pubblico che avverrà proprio nelle prossime settimane l'esperienza dei beni confiscati positiva per la città non perché un'amministrazione comunale abbia bisogno di un bene in più rispetto a quelli che solitamente fanno parte del demanio del patrimonio indisponibile ma perché veramente ha un alto valore di carattere sociale sentire che il mal tolto il frutto del reato il frutto dell'azione della mafia o delle mafie possa diventare un bene che appartiene a tutti e in questo rapporto con Libera un'attenzione particolare anche ultimamente è stato riservato al mondo dell'imprenditoria con un coinvolgimento di tutte le associazioni produttive imprenditoriali e di categoria abbiamo previsto la costituzione di un forum cittadino sullo sviluppo economico un forum in cui insieme ente locale ed organizzazioni disegnano un po' l'idea di sviluppo economico di una città perché sia più partecipato e anche più condiviso e inoltre abbiamo sottoscritto nel mese di luglio con un'associazione operante nella zona industriale della città un protocollo di intesa appunto tra amministrazione comunale e associazione e zona industriale a cui aderirà non appena avrà ottenuto i permessi anche la prefettura di Brindisi con la funzione di cooperare di fronte ad ogni problema che riguarda le questioni legate al tema della legalità nell'ambito delle attività della zona industriale per favorire anche un passaggio immediato di notizie circa la commissione di reati per esempio all'interno della zona industriale purtroppo sono molto frequenti i furti e anche i tentativi di rapina e i soggetti sottoscrittori amministrazione comunale e operatori della zona industriale si sono anche impegnati a porre in essere tutte le iniziative opportune per far crescere il livello di sicurezza e anche di tranquillità degli operatori all'interno della zona industriale sia conforme di primo intervento pensate all'installazione di strumenti di videosorveglianza che possono essere utili ma ancora di più con iniziative di più ampio livello come per esempio la partecipazione degli operatori ai pon sicurezza che vengono volta periodicamente finanziati la costituzione di un fondo di garanzia anche per gli operatori economici e la prossima costituzione di un'associazione anche antirabili anche questo ulteriore passo però frutto della valida collaborazione con l'associazione libera è ascrivibile appunto all'impegno di tutti la grande capacità di aggregazione intorno ai temi della legalità la volontà di essere uniti contro la criminalità sono stati fattori determinanti per intraprendere un percorso nuovo per una rinnovata e più radicata cultura della legalità quando la città ha deciso di reagire ha scelto di reagire ad una condizione di crisi acuta già attorno alla metà del decennio passato non era facile immaginare che si potesse uscirne presto perché vi era una crisi morale di crisi ducia strettamente connessa anche con la gravità del quadro dell'ordine pubblico oggi possiamo dire con soddisfazione che i risultati ottenuti sono visibili non interamente conseguiti e Mesagne conosce una nuova stagione che è anche stagione culturale che è anche stagione turistica diventa punto di riferimento e soprattutto in una città che non ha una naturale vocazione anche al turismo si comincia a parlare di turismo culturale di turismo congressuale di turismo enogastronomico e con effetti positivi non solo per l'immagine della città ma anche per lo sviluppo della sua economia questa nuova visione si fonda certamente sulla intensificazione dell'azione di repressione e prevenzione della criminalità di cui va reso merito alle forze dell'ordine e alla magistratura che operano nel nostro territorio ma anche sulla determinazione di tutta la cittadinanza che in prima linea non ha mai mancato di esprimere la propria volontà di sconfiggere la paura delle magie il cammino di sviluppo che ancora ha tanta strada da percorrere è stato favorito anche da strategie globali poste in essere dall'amministrazione comunale tese a promuovere la crescita del territorio e tese soprattutto a valorizzare tutte le risorse del territorio quelle naturali quelle economico produttive quelle archeologico e culturali i sacrifici le sofferenze e anche le lotte che la città nella sua interezza ha dovuto affrontare per dare una risposta complessiva positiva alla criminalità organizzata hanno avuto qualche mese fa anche un riconoscimento a livello nazionale la commissione giudicatrice del premio Ton Benetollo promosso dalla presidenza del consiglio della provincia di Roma ha conferito al comune di Mesagne per l'anno 2006 un premio speciale per il lavoro sui beni confiscati e per l'affermazione della legalità è un premio che ho accolto con orgoglio è un premio che sicuramente rende riconoscimento rende merito al lavoro svolto dall'intera comunità cittadina è un premio che al tempo stesso stimola tutti a seconda dei ruoli che ricopriamo anche per il futuro ad un impegno ancora intenso per rendere la città sicuramente questo è lo sforzo che quotidianamente facciamo come amministratori locali per rendere la città più accogliente e solidale ma anche perché non è meno importante per rendere la città anche sempre più vivibile e sicura e libera soprattutto dai fenomeni di criminalità che nel corso di questi anni l'hanno profondamente segnata dal punto di vista materiale ma anche dal punto di vista morale grazie al sindaco che è stato testimone si vedeva che era un racconto di esperienza vissuta realmente sul campo era straordinario non leggeva era un racconto vero Alessandro La Terza il tema di oggi è imprese e legalità per un'economia di qualità l'opinione di Alessandro La Terza in quanto imprenditore come dire è un'opinione altamente qualificata già di per sé essendo imprenditore dalla nascita adesso è candidato unico al candidato unico monocandidato all'associazione a rappresentare gli industriali della provincia di Bari quindi come dire un quarto dieci minuti dieci minuti massimo grazie io ringrazio ovviamente moltissimo per per l'invito e vorrei come dire fare qualche considerazione che per certi aspetti spariglia un po' il gioco della discussione così come si è svolta finora finora abbiamo discusso in maniera molto forte e con testimonianze molto importanti di mafie e mi ha molto inquietato il fatto che negli interventi emergeva il fatto che talvolta da parte di qualcuno evidentemente si può essere pensato che la mafia o le mafie sono ed è un'entità con la quale si può convivere che addirittura può essere un fattore propulsivo dell'economia mi ha molto preoccupato l'onorevole Lumia quando ha detto dobbiamo batterci per dimostrare che l'illegalità non conviene sempre come se l'illegalità possa convenire so che non è il suo pensiero ma evidentemente riflette alcune alcune riflessioni o alcuni aspetti di una mentalità probabilmente diffusa in ambienti che devono convivere costantemente con la criminalità organizzata e ne subiscono in qualche maniera l'influenza da questo punto di vista nell'attesa di sentire ovviamente l'intervento autorevolissimo del proprietario Grasso io non ho moltissimo da dire nel senso che per me non esiste un discorso di convivenza o di tolleranza della mafia non riesco a entrare nemmeno nell'ordine di idee che una cosa del genere possa accadere fatico a dire che c'è un imprenditore mafioso e a che fare con la mafia per me non è un imprenditore non per un fatto moralistico ma per un fatto come dire molto concreto e operativo chi fa impresa si misura con un mercato il mercato non è la giungla dove si fa tutto ciò che si vuole è un'arena che presenta delle regole e in cui ciascuno si misura con la sua proposta chi disturba in qualsivoglia modo tanto più attraverso l'esercizio della forza della minaccia questo meccanismo di mercato non è un imprenditore chiamiamolo un operatore economico ma non so nemmeno se è corretto definirlo in questi termini si è fuori in qualche maniera dal gioco e quindi per me la discussione riguarda solo come si combatte la mafia in qualche maniera come si combattono le mafie e qui forse io non sono ovviamente il più esperto titolato a dare a dare un contributo questo è un primo punto nodale la questione invece che mi interessa maggiormente e che è strettamente collegata naturalmente a quella che è stata qui dibattuta è forse più vicina alla tematica che ha sviluppato il sindaco semplice ho cercato col nome conosciuto è anomalo l'uno e l'altro semplice sconosciuto semplice sconosciuto e lei c'è un cognome sindaco che ci mette in difficoltà con ogni caso che ha fatto che mi pare che ci aveva parlato di come dire di una modalità di affrontare il tema della lotta alla mafia in termini di lotta in realtà all'illegalità allora per me il tema nodale è quello della illegalità e dell'illegalità diffusa allora la mia preoccupazione fondamentale non riguarda l'impresa che ha a che fare con la mafia perché ripeto per me lì la questione è essenzialmente questione di repressione anche se magari giocate attraverso interventi che non sono solo di carattere repressivo il tema in che misura un'impresa oggi nel sud forse in Italia riesce a condurre una vita normale cioè qual è la possibilità di essere normale per un'impresa o per un imprenditore in Italia o nel mezzogiorno d'Italia in particolare e qui devo dire che tra le posizioni che vedono se vogliamo nella declaratoria del convegno l'illegalità da un lato come fatto assoluto e la legalità come fatto assoluto dall'altro purtroppo vedo una gamma enorme di sfumature e posizioni e a me interessa francamente far sì che questa forbice tra legalità e legalità si vada progressivamente stringendo per far sì che sempre più i principi di legalità possano ispirare correttamente l'azione di tutti i soggetti i vinclusi quelli imprenditoriali da questo punto di vista ho una questione specifica che vorrei terminare velocemente che mi preoccupa particolarmente e questa questione è quella della complessità burocratica e normativa con cui le imprese tutte di qualunque natura si devono oggi misurare mi preoccupa per due motivi essenzialmente molto semplici il primo è che talvolta le norme che ci viene chiesto di rispettare sono semplicemente come dire irraggiungibili cioè come dire sono ci propongono adempimenti e obblighi che pressoché impossibile riuscire a ottemperare questo è un problema enorme perché i casi che si danno sono due o in qualche maniera si è in difetto o addirittura si vede messa a rischio la propria attività perché si ritiene di non essere in grado di rispettare questa o quella normativa oppure si decide che visto che è impossibile rispettare la regola la si evade completamente e questo mi pare una soluzione assolutamente catastrofica perché a questo punto non è solo problema di mafie è questione di stile di conduzione di una di un'attività le materie su cui questo tipo di problema si possono misurare sono molteplici una tipica la materia ambientale delicatissima delicatissima perché molto spesso come dire la norma descrive un ideale sostanzialmente irraggiungibile e quindi appunto questo diventa o un inseguimento vano oppure addirittura un invito a disinteressarsi di poter come dire risolvere quella che è la domanda che viene posta dalla mano pubblica problema qual è la mia riflessione la mia riflessione preferirei norme più semplici forse più lasche però poi ovviamente come dire punizioni esemplare per chi queste norme non rispetta perché questa è un'altra faccia del problema quando la norma è raggiungibile i livelli di tolleranza talvolta vanno al di là di ciò che è decente ed è lecito immaginare quindi questo è un primo punto ripeto le materie sono tante io riflettevo l'altro giorno su una questione molto grave che si sono verificate in Puglia mi riferisco a gravissimi incidenti sul lavoro la cosa può essere vista sotto molte prospettive e come imprenditore vi dico che voi non avete l'idea di quanto sia difficile convincere i lavoratori a rispettare la normativa di sicurezza del lavoro ovviamente questo è un pezzo del discorso non è tutto non mi garantisco che assumere un provvedimento disciplinare nei confronti di un lavoratore che non rispetta la normativa di sicurezza non è fatto che come dire viene considerato normale come dovrebbe essere se è vero che ci si aspetta che in qualche maniera c'è attenzione ci sia attenzione da parte di tutti a questi temi l'altra questione è che dove c'è selva normativa e burocratica lì c'è una grande occasione sicuramente per le mafie ma non solo poi ci sono anche le mafiette come dire le consorterie le piccole lobby e quindi dove c'è difficoltà da questo punto di vista per l'impresa automaticamente si materializza magicamente il mediatore colui il quale ti risolve il problema e se parliamo è una battuta di mafia antimafia vi dico che nessuno riesce ad avere con più facilità e velocità una certificazione antimafia ed un mafioso per una persona normale potrebbe avere qualche problema qualche difficoltà e non scherzo perché questa è una descrizione di fatti che purtroppo si verificano nell'esperienza allora io credo che tutte le iniziative che sono state descritte prima siano iniziative fondamentali noi ci dobbiamo battere però perché ci sia un contesto complessivo in cui l'impresa opera in cui i rapporti tra imprese pubbliche amministrazioni non siano improntati a complessità bizantine questo lo dico non perché voglio coltivare alcuna ideologia liberista secondo un'interpretazione impropria della parola ma perché io credo che ci vogliano poche forti regole che vanno fatte rispettare con molta forza questo vale per esempio moltissimo anche in tema di tema diciamo fiscali di versione fiscale perché siamo in una situazione un po' paradossale si ragiona come se tutti fossimo dei potenziali evasori dopodiché chi è evasore lo è veramente raramente viene come dire pescato e punito quindi un po' come dire un gioco contraddittore allora poche regole certe rispetto rigorosissimo di queste regole anche perché vorrei ricordare che per quanto sia una tecnicalità banale un imprenditore dovrebbe pensare soprattutto a creare progetti di sviluppo nuove attività non diventare come dire un compilatore di moduli compilando moduli non solo ci si distrae dalla propria attività ma spesso e volentieri purtroppo si come dire cade nella tentazione di trovare scorciatoie e su quelle scorciatoie la lotta deve essere come dire e la vigilanza deve essere ovviamente altissima grazie ringrazio Alessandro la terza perché ci ha fatto quasi ritornare nei tempi stabiliti tutti aspettiamo l'intervento del procuratore Grasso però do un minuto la parola all'assessore Minervini che deve portare i saluti so che deve portare i saluti di tutta la Puglia al forum e al procuratore Grasso che oggi è stato qui con noi Guglielmo Assessore regionale alla trasparenza alla cittadinanza attiva se violo la disposizione non do un saluto faccio una riflessione va bene lo stesso va bene però pochissimo tempo il tempo l'ha lasciato Alessandro la terza ok una riflessione salutare no due tre brevissime riflessioni a flash la prima stimolata proprio dalle ultime battute di Alessandro ieri sera alle 23 su Rai 3 hanno ripreso a trasmettere un po' di film buoni c'era mio cognato di Alessandro Piva un splendido spaccato sulla straordinaria contiguità tra legalità illegalità e mafia nella società barese sull'assottigliamento progressivo di quel diaframma che consente di separare questi tre mondi e su quanto sia diventato complicato stabilire dove finisca la legalità dove inizi la illegalità e dove finisca l'illegalità e inizi la mafia inizi il crimine organizzato la violenza strutturata questa mattina in edicola l'Espresso riporta un titolo per molti versi agghiacciante io schiavo di Puglia anche questa è una raffigurazione uno spaccato abbastanza agghiacciante della della dello stesso progressivo assottigliamento tra legalità illegalità e mafia tra la cultura l'economia della agricoltura legale quella legata appunto alla una delle produzioni trainante dell'economia agricola della nostra regione la produzione del pomodoro una congiuntura di crisi difficile il lavoro a nero lo sfruttamento di lavoro non regolare e quello che viene fuori dal reportage si tratta di un giornalista che secondo vecchie culture purtroppo non molto ormai diffuse di giornalismo sul campo si è travestito da si è travestito da immigrato e ha convissuto con gli immigrati scoprendo che dietro questa realtà di nero di lavoro non regolare in realtà c'è violenza organizzata c'è il traffico c'è schiavismo che significa questo che in generale quel diaframma lì che pensiamo di poter dominare in realtà è molto più sottile di quello che pensiamo e soprattutto nelle congiunture di crisi nelle fasi di difficoltà si restringe ancora di più fino addirittura in alcuni casi a sparire a dissolversi seconda riflessione vado bene con i tempi seconda riflessione dovremmo fare il punto della fase nella quale ci troviamo nel confronto nella ricerca delle risposte da dare rispetto a questa cancrena radicata nella nostra società in modo particolare nella nostra società meridionale noi abbiamo attraversato già diversi cicli che ci consentono di fare un primo bilancio Mario Sconosciuto avrebbe parlato in termini diversi o probabilmente non avrebbe parlato come sindaco di Mesagne se ad un certo punto non ci fosse stata quell'antimafia giudiziaria che a lungo nel nostro paese abbiamo invocato e che con grandissimo ritardo è scesa in campo e ha fatto la sua parte ha fatto la sua parte di stato che ha difeso il principio di titolarità dell'esercizio della forza della violenza questo è avvenuto in situazioni particolarmente difficili come quella della Sicilia e è avvenuta con particolare tempestività qui in Puglia sul nascere di tutta una serie di fenomeni degenerativi di organizzazione della violenza che altrimenti sarebbero andati molto lontani nella penetrazione del tessuto sociale pugliese penso proprio al caso di Mesagne uno dei primi più virulenti insediamenti nei quali questa deviazione questa patologia sociale si radicò 15 anni fa quell'antimafia ha fatto la sua parte ha dato il suo contributo a dissarticolare il quadro oggi in Puglia ma direi anche in Sicilia la situazione è assolutamente diversa una volta che si è consumata questa fase abbiamo capito che occorreva dell'altro e l'attenzione si è spostata su un altro territorio di interventi di azioni possibili abbiamo invocato un'antimafia sociale un'antimafia che si concentrasse di più sugli interventi che aggredissero le radici dei fenomeni sociali delle difficoltà della marginalità delle residualità sociali per la verità questa antimafia è stata più evocata che praticata sul piano poi concreto i risultati che abbiamo portato a casa sono davvero abbastanza dalle parole di Mario Sconosciuto in realtà secondo me qualche riflessione di carattere generale si può attrarre noi siamo oggi secondo me immersi in un'altra fase ancora nella quale non è né il pezzo della magistratura e delle forze dell'ordine né il pezzo degli enti locali e delle istituzioni in quanto tali chiamati singolarmente presi in causa siamo chiamati come si può dire ad una sorta di a mettere in campo una sorta di antimafia civica intesa come una inedita alleanza dei soggetti che attraverso la riassunzione della responsabilità nella costruzione del destino di una comunità di fatto generano un anticorpo rispetto a queste deviazioni in questo senso produce cultura dell'antimafia oggi tutto ciò che va nella direzione di ripristinare un inedito rapporto di comunicazione di scambio di cooperazione di dialogo tra istituzioni e cittadini in questo senso la chiamo diciamo in questi termini una sorta insomma è come se ci fossimo accorti che solo ricostruendo ricucendo quella relazione interrotta il tessuto si risana e quindi recupera la sua impermeabilità ecco rispetto a questi a queste degenerazioni terza riflessione è che è ovvio che qui in Puglia stiamo provando a ragionare in questi questi termini noi siamo alle prese con una idea di formulare una sorta di legge sulla sicurezza nella nostra regione che non risponda solo diciamo alle competenze trasferite dalla riforma del titolo quinto alla regione di organizzazione della polizia locale ma alla domanda proprio di sicurezza nel nostro territorio come un elemento della convivenza che deriva dalla integrazione di una molteplicità contestuale di fattori sicurezza si produce se lavori insieme mettendo in campo politiche apparentemente disarticolate tra di loro come quelle dell'urbanistica fino a quelle sociali a quelle economiche a quelle culturali ecco il risultato della sicurezza come un risultato derivante da un'azione complessa non è facile non è facile ma a me pare che sempre più questa sia si stia rivelando una sorta di strada obbligata per superare come si può dire il pur importante efficace successo sortito dai singoli attori ma che nel medio termine nelmeno nel lungo termine rischia di rivelarsi inadeguato questo è quanto volevo dirvi la legge la stiamo scrivendo insieme appunto con le associazioni di cittadinanza attiva il contributo più interessante più stimolante sta arrivando proprio da libera e vogliamo che sia la legge dei cittadini pugliesi quindi pensiamo di metabolizzarla proprio con un ampio lavoro di confronto sociale una volta pronto il testo così come abbiamo fatto con alcune altre sperimentazioni contiamo proprio di aprire questa fase articolata ampia di consultazione sociale si costruisce sicurezza ripristinando appunto una relazione virtuosa positiva tra cittadini e istituzioni non più sovraordinate ma un elemento appunto della rete sociale che cui affidiamo il compito la responsabilità di costruire il proprio destino il proprio futuro prego procuratore grasso io leggendo il programma vedo che alle 19 c'è un altro impegno quindi possiamo andare direttamente inaugurazione del centro multilinio rifugiati in libreria dico intanto io devo ringraziare tutti gli intervenuti perché hanno mostrato veramente una grande attenzione ai temi che sono stati trattati e anche una grande costanza nel riuscire a mantenere la loro attenzione per tanto tempo viva per cui il mio compito adesso dopo ben due ore di ascolto è ingrato pensate che secondo gli studiosi della comunicazione l'attenzione non più di 20 minuti è già un record si mantiene per cui il mio compito adesso è ingrato ed è anzi aggravato dal fatto che tante delle cose che volevo dire sono state già dette sia dal brillante completo intervento dell'onorevole Luimia sia dal rappresentante di Libera che veramente hanno spaziato su tutta una serie di temi di cose che ne sono quindi avete visto che man mano che loro parlavano io andavo dai miei appunti andavo tagliando tutte le cose quindi alla fine pensavo che le 19 mi salvassero invece siamo qua ad affrontare l'argomento ma detto questo devo dire che il tema della legalità è il tema dell'economia è un tema di massima importanza nel nostro paese perché la forza delle moderne organizzazioni mafiose più che nella libertà personale dei propri affiliati sta nella ricchezza di cui possono disporre c'era un pentito uno dei primi in antestiniano addirittura del 92 mutolo che diceva voi ai mafiosi qualche anno di carcere ma ce lo mettono nel conto gli dovete colpire la tasca perché se gli colpite la tasca incominciano a non ragionare più in effetti seguendo questo schema questo suggerimento consigli per gli acquisti diciamo di mutolo quando era procuratore a Palermo sono stati incrementati notevolmente i sequesti le confische dei beni mafiosi siamo arrivati a cifre sui 12 mila miliardi di vecchie lire adesso mi fate fare il conto in euro perché non ce la faccio però certamente una 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 cifra notevole di sequesti purtroppo non tutti utilizzati ai fini sociali per vari problemi pensate che a Palermo se a Mesagna ce ne sono due a Palermo ce ne sono 6.500 circa di cui utilizzati credo un 10% o qualcosa del genere ci sono tanti problemi ma devo dire che colpire le tasche dei mafiosi e in una fase come l'attuale di riduzione delle risorse e di tentativi di ripresa produttiva i detentori di capitali mafiosi oggi possono approfittare della mancanza o quantomeno dell'indebolimento delle regole di mercato per espandere il loro potere economico criminale conquistando quindi nuove posizioni e scacciando dal mercato gli imprenditori onesti e devono preoccupare i risultati di una ricerca del census che ormai è stata più volte citata perché risalenta al 2003 ma sempre interessante secondo la quale la presenza mafiosa impedisce all'economia del mezzogiorno di decollare di svilupparsi di crescere incidendo sulla produzione di 7,5 miliardi di euro di ricchezza in meno e poi capite che questa somma rappresenta il 2,5% del PIL pro capite del mezzogiorno la perdita ogni anno di 180.000 posti di lavoro sarebbero risolti tutti i problemi che affannano il mezzogiorno senza contare poi un altro costo aggiuntivo quello che io ho chiamato il costo della paura cioè le spese per i sistemi di difesa i sistemi di difesa per le assicurazioni per la polizia privata che ammonterebbero a 4,3 miliardi di euro con un'incidenza del 3,3% sul fattorato anno quindi vedete un'impresa al sud ha questi costi aggiuntivi quindi da questi dati si capisce che la mafia non è solo una questione criminale una questione di ordine pubblico una questione di uomini armati che commettono stragi omicidi estorsioni corruzioni che truccano appalti che trafficano in stupefacenti in esseri umani in organi in rifiuti e quant'altro volete è anche una questione economica questione sociale e conseguentemente questione politica ma politica che non riguarda solo il mezzogiorno ma tutto il paese e oggi io penso addirittura l'Europa in Italia ma soprattutto nel mezzogiorno sia in presenza di un'economia sommersa che produce beni e servizi in sé legali ma violando alcune regole come per esempio le norme fiscali le norme previdenziali o antinfortunistiche nel caso del lavoro nero poi vi è un'economia criminale che invece produce beni e servizi di per sé illegali come i superfacenti il contrabbando di tabacchi il gioco d'azzardo il gioco clandestino e così via infine c'è un'economia legale nella quale attraverso l'interposizione fittizia di prestannomi si investono anche i profitti mafiosi provenienti dall'illecito e quest'ultima è la forma più pericolosa perché alterando occultamente il mercato legale svuota la libera impresa il libero mercato la democrazia dei suoi contenuti essenziali in una lettera uno dei famosi pizzini di Provenzano uno lo invita a partecipare a un affare e la prima cosa che gli chiedono mi dia il nome di un prestannome che si intesti le quote per conto suo e lui risponde in questo momento non ce n'ho a disposizione per questo tipo di affare il che per noi è una grande vittoria perché un momento di crisi che non dà la possibilità a Provenzano di trovare un prestanome affidabile perché barati i prestanomi devono essere assolutamente affidabili pensate se viene ucciso il boss mafioso e il prestanome si incamera tutte le ricchezze che non sono sue a sua volta rischia la vita sì però se la famiglia per esempio non è a conoscenza di questa intestazione fittizia si può incamerare tutti i beni tranquillamente perché legalmente è intestatario di beni servizi quote societari quindi ci vuole un prestanome veramente di fiducia e che porti non freghi non freghi nella gestione e che porti tutti gli introiti a chi spettano magari avendo percependo una percentuale per la sua attività ma questo è il mondo in cui ruota tutta questa parte di economia legale con prestanomi che portano soldi della mafia e delle organizzazioni criminali allora questo è il panorama per una da cui partire per un'analisi poi su cosa fare perché Provenzano ha attuato dopo le stragi dico quelle di Falcone e Borsellino ma anche dopo quelle di Firenze e Roma e Milano e dopo la repressione che c'è stata ha attuato a cominciare dal 96 una strategia nuova quella della invisibilità della sommersione è riuscito a traghettare l'organizzazione mafiosa fuori dalla crisi del dopo stragi della repressione dopo stragi come? mettendo di nuovo in ballo la mafia degli affari la mafia con i prestanomi la mafia cosiddetta legale naturalmente tra virgolette perché la mafia è di legale non potrà mai avere niente bene e il capo mafia corleonese è stato anche definito il più laico dei capi mafia per la sua capacità di coinvolgere anche parti della politica che prima invece venivano tenute lontane da certi affari lui riusciva a coinvolgere non solo il sistema che è stato rievocato dall'onorevole Lumia ma riusciva a coinvolgere anche la sinistra le cooperative il mondo delle cooperative secondo Gioacchino Pennino uno dei collaboratori di giustizia il vero regista della della politica palermitana sarebbe stato proprio Bernardo Provenzano che pensate gli avrebbe categoricamente impedito di prendere le distanze da Ciancimino quando lui si voleva politicamente distaccare vedete una mafia che entra dentro le decisioni di una corrente politica per poi dargli via libera una volta constatato che le fortune dell'uomo politico erano in declino dopo il congresso di Agrigento in cui Ciancimino fu messo formalmente fuori dalla democrazia e questo è Provenzano senza dimenticare che colui che ha partecipato alla strage di Lazio del 99 quindi che questa strategia questa mente raffinata che segue la politica è stato un killer che ai tempi di Ligio ha partecipato probabilmente adesso non è stato mai imputato condannato per questo delitto ma all'omicidio Navarra del capo mafia imprenditore anche lui era colui che aveva teorizzato la mafia imprenditrice ed era anche uno dei notabili democraziani ma secondo poi le dichiarazioni di un altro collaboratore come Sino Provenzano è una mente raffinata che decide di copirsi le spalle facendo partecipare le cooperative rosse mentre Rina a Corleone le aveva buttate via ecco che c'è un nuovo allora in una lettera in un famoso pizino a Salvatore Genovese un suo logotenente che operava a San Giuseppe Iato che fu arrestato nell'ottobre del 2000 e sequestramo appunto questa corrispondenza questo Salvatore Genovese gli aveva comunicato che aveva fra le mani un contatto politico di buon livello che avrebbe permesso di gestire molti e grandi lavori quindi a parti pubblici Beh Provenzano con una serie di interrogativi nella risposta non nasconde la sua diffidenza cito testualmente il pizino di risposta ma non conoscendo non posso dirti niente ci vorrebbe conoscere i nomi e sapere come sono loro combinati perché oggi come oggi non c'è da fidarsi di nessuno possono essere truffaldini possono essere sbirri possono essere infilciati quello parlava di politici e possono essere dei sprovveduti possono essere dei grandi calcolatori beh questo è il pizino questo brano potremmo definire un frammento di antropologia mafiosa o più esattamente della borghesia mafiosa quella di cui ha parlato il rappresentante di Libera cioè quel campionario di politici amministratori tecnici professionisti imprenditori che ruotano attorno a Cosa Nostra e che fanno la forza di Cosa Nostra scritto da un addetta ai lavori come Provenzano dimostra al di là di qualsiasi analfabetismo dello scrivente di qualsiasi errore grammaticale una conoscenza di uomini e cose maturate attraverso un'esperienza quotidiana che non sempre è andata liscia per lui e che minaccia di diventare ancora più complicata con quella frase con i tempi che corrono quindi ci sono stati e ci sono truffaldini sbirri infiltrati sproveduti calcolatori tutto un assortimento di personaggi che operano contro Cosa Nostra e bisogna tenere gli occhi ben aperti per non cadere in qualche trappola e fare una brutta fine bene io questo Pizzino l'ho preso come il riconoscimento dell'efficacia dell'azione della magistratura e della polizia che è riuscito a infiltrare questo dubbio in una mente del capo di Cosa Nostra quando invece in passato erano tranquilli sull'omertà sulla solidarietà su tutte le persone che effettivamente contattate non c'erano questi dubbi e per questo guardate che è un grandissimo risultato perché la forza di Cosa Nostra incomincia a vacillare quando ci sono tutti questi dubbi come si vede Provenzano scrive a malapena in italiano non usa certamente il computer la verità non usa nemmeno il telefonino non navica in internet eppure la mafia che incarnerebbe sarebbe proprio da computer e da internet attenta com'è oggi qualsiasi occasione offerta dal mercato legale o illegale e adattarsi al mutamento del contesto io ricordo ancora un'intercettazione che mi è ripasta nella memoria che è indicativa il giorno della caduta del muro di Berlino c'era un mafioso che veniva intercettato e parlava con un suo corrispondente mafioso che stava a Berlino Ovest e gli diceva vai subito a Berlino Ovest e poi diceva che ci devi andare a fare diceva come è caduto il muro vai subito all'altro lato e quello continua ma che devo andare a fare devi andare a comprare ma a comprare che cosa tutto tutto devi comprare bar pizzerie ristoranti alberghi vedete come nemmeno lo stesso giorno già la mafia si proiettava negli affari dell'est nella conquista delle posizioni economiche che poi ti danno anche l'aggancio col potere vero col potere politico e insieme riescono a controllare attraverso l'economia attraverso il denaro attraverso i soldi poi anche i vari territori le nuove frontiere che si aprivano immediatamente beh quindi certamente è difficile pensare a un provenzano appunto capo di questa multinazionale del crimine che poi scrive in quel modo però riflettiamo un attimo basta poco il passaggio basta un consulente basta il figlio di Ciancimino beh recentemente lui e alcuni suoi soci hanno venduto una società di gas che aveva gas gestiva gas commerciava in gas a una società straniera per 230 milioni di euro beh e l'origine di questi soldi è un'attività imprenditoriale certamente ci saranno stati da qualche parte dei capitali iniziali ci saranno stati dei rapporti con la Russia con cui si o con la Tunisia con cui ci sono questi rapporti per commercializzare il gas è bastato pochissimo è bastato un avvocato internazionale che avesse studi a New York a Londra a Roma e che curasse questi affari beh e allora cominciamo a capire un po' di più che cosa significa mafia intenditrice io da anni sostengo andando incontro a polemiche più o meno scoperte e talvolta pretestuose che il fenomeno mafioso non è riducibile a poche migliaia di associati a Cosa Nostra dico Cosa Nostra perché ho il paragone sui numeri della mia conoscenza maggiore quella perché si è calcolato 5.000 affiliati organicamente affiliati quelli con l'audito punciuto quelli che fanno la cerimonia per entrare in Cosa Nostra o quelli che comunque anche se non la fanno lo sono in maniera funzionale beh 5.000 e i siciliani quanti sono? 5.000 5.000 contro 5.000 ma vogliamo fare una battaglia sul campo? Non ci sarebbe storia e invece sono secoli che non riusciamo a liberarci di questa organizzazione ci sarà una ragione e la ragione è proprio questa che quella borghesia mafiosa di cui si parlava prima composta da professionisti composta da imprenditori commercianti consulenti politici che sono la vera forza di Cosa Nostra perché partecipano a un sistema globale a un sistema mafioso che dà continuità e dà privilegi in questo contesto in cui non ci si riesce a liberare di questo fenomeno e quindi il problema sono gli imprenditori e non c'è dubbio che il punto attorno a cui ruota questo sistema mafioso è proprio l'imprenditore senza il quale riflettiamoci un attimo né la mafia né la politica né la burocrazia potrebbero avvantaggiarsi dei finanziamenti pubblici ciascuno eventualmente per la propria parte perché poi questi arricchimenti spesso vengono da finanziamenti pubblici cioè dai soldi l'evasione fiscale è una cosa ma i finanziamenti pubblici che vanno poi alla mafia o percorrono le vie della corruzione burocratico amministrativo politica certamente sono soldi sottratti ai cittadini perché soltanto una parte vanno a essere utilizzati per le opere pubbliche per cui sono stati stanziati ci sono città come Reggio Calabria che hanno la palma della città con più opere pubbliche incompiute perché iniziano le opere pubbliche finiscono i soldi e rimangono così nemmeno qualcuno se ne prende una parte ma almeno fai l'opera pubblica per i cittadini sarebbe già tanto così come può avvenire in altre zone dell'Italia allora quando finalmente l'imprenditore che è costretto io lo capisco da un punto di vista umano tra l'estorsione mafiosa e la corruzione politica burocrata è un diciamo un mestiere veramente drammatico quello dell'imprenditore al sud soprattutto ma io penso che si dovrà raggiungere un limite oltre il quale l'imprenditore non avrà più la convenienza economica e forse ci sarà un'implosione del sistema come io penso che avvenne per Tangentopoli cioè tu hai un vantaggio allora l'imprenditore adesso al di là dell'etica al di là di qualsiasi appello appunto a principi eccetera eccetera l'imprenditore qua ce ne è uno presente deve avere un profitto scusi deve avere un profitto mi ero rivolto dall'altro lato lei ha cambiato posto mi ha disorientato perché qui era assoluto dico deve avere un profitto e se non c'è il profitto l'imprenditore chiude fa un'altra cosa perché e oggi come possono essere margini di profitto quello che mi chiedo io e quando ci si renderà conto che l'impresa mafiosa come già è stato detto genera un'economia drogata fragile che non produrrà certamente uno stabile sviluppo è perché noi lo vediamo con i beni sequestrati con le società sequestrate con le attività imprenditoriali sequestrate appena vengono fuori dal mercato mafioso non si possono reggere da sole perché è un'imprenditoria che si avvale di tutta una serie di vantaggi e di privilegi che non è l'imprenditoria libera che non sono dell'imprenditoria libera e questo è il problema perché vedete ricordiamolo che la mafia non potrà mai essere compatibile con un'economia sana pare ovvia questa affermazione perché in realtà bisogna stare a letta perché ci sono ancora molti che invece ritengono che la mafia non è solo un'organizzazione criminale ma a suo modo è anche uno strumento di accumulazione di capitale a suo modo è anche un datore di lavoro perché no anche se in nero a suo modo è anche un ammortizzatore sociale risolve tanti problemi sociali da da mangiare a persone che altrimenti non avrebbero come sfamare i propri figli a suo modo è anche un investitore in attività produttive legale e quindi anche certamente economicamente è un fattore di sviluppo ma è un'organizzazione che quindi coinvolge uomini che coinvolge banche intermediari imprenditori professionisti eccetera eccetera c'è una buona parte della società civile e politica e forse ciò spiega perché nonostante l'esistenza pluricentenaria come dicevo prima non si è stata ancora debellata ma queste risorse finanziarie si possono ritenere maledette tra virgolette al momento della loro accumulazione diventare poi benedette al momento del loro utilizzo in investimenti legali produttivi di occupazione sviluppo si può arrivare a proporre come spero sia stato fatto solo per provocazione che canali semi istituzionali incoraggino la mafia ad investire tra virgolette per il bene del paese in attività produttive in sofferenza per fare un esempio comprensibile sarebbe come invitare Provenzano a risanare investendo nella sanità privata convenzionata la sanità pubblica cosa che forse ha cercato di fare forse chi lo propone non lo sa ma tutto ciò costituisce un reato che ha un nome ben preciso che si chiama riciclaggio di denaro sporco viene combattuto chissà perché da tutto il mondo da più di mezzo secolo come qualcosa di esiziale per l'economia la consueta questione del rapporto sotto sviluppo mafia appare oggi superata in quanto ormai si è stabilizzato un modello di un circolo vizioso che porta nel complesso a un rafforzamento reciproco di entrambi i fenomeni sia il sotto sviluppo sia la mafia la mafia non è necessariamente figlia del sotto sviluppo dire che questa è un'equazione che è assolutamente sbagliata ma comunque ne è un fattore di forte e strumentale mantenimento vedete che deve purtroppo prendersi atto oggi che la mafia ancora oggi riesce a condizionare pesantemente lo sviluppo dell'economia del sud soprattutto nel settore delle opere pubbliche mortificando la libera concorrenza tra le imprese io ricordo un'intercettazione nel corso di un'indagine in cui un imprenditore che aveva avuto un grosso appalto di un'opera pubblica al centro della Sicilia nell'agrigentino aveva fissato il giorno in cui fare la cosiddetta colata di cemento nel senso in cui tutte le maestranze erano presenti doveva arrivare la fornitura di cemento e buttare le fondamenta di questa opera gli telefona la società a cui aveva chiesto la fornitura e dice si sono rotti gli impianti non possiamo più fornire il cemento domani questo è allarmatissimo incomincia a prendere pagine gialle e incomincia a cercare altre società di calcestruzzi prende la più vicina perché si sa che il costo che il trasporto incide sul costo e quindi il telefono e dice guardi per domani mi serve questa fornitura quello dice scusi dove la devo portare dove la devo portare il cemento c'è lì nella zona dice no mi dispiace non lo posso fornire come non lo posso guardi che le do qualcosa di più rispetto al mercato dice mi dispiace io là non posso fornire il cemento lei si è rivolta alla società quella sì ma gli impianti sono guassi e allora aspetta che sa giusto è finita la conversazione e allora capite che in un sistema del genere se noi questo lo prendiamo come paradigma per altre attività imprenditoriali capite come è difficile lavorare in questo contesto e le più recenti indagini hanno confermato l'esistenza di una imprenditoria mafiosa che opera prevalentemente appunto nel settore dell'edilizia dell'impiantistica nel settore della sanità abbiamo visto Provenzano aveva delle imprese sin dal 1984 che operavano nel settore della sanità di forniture di elementi per la sanità a tutti gli ospedali siciliani aveva già intuito che quelle che devono essere gli stanziamenti per la sanità come la maggiore spesa pubblica almeno in Sicilia ma penso che è un po' dappertutto forniture e apparecchiature per strutture ospedaliere quindi tutte le imprese mafiose nel settore per esempio tutti i settori dove ci sono pubblici appalti soprattutto all'edilizia anche nel settore dei rifiuti nel settore dei rifiuti abbiamo assistito a un'altra intercettazione in cui io l'ho detta più volte penso che sia conosciuto un mafioso dice all'altro sai che ti dico io dico in dialetto però dice buttamo nella munnizza e quello ci dice picchi picchi tras munnizza e ne esce oro entra in mondizia ed esce oro quindi il settore dei rifiuti era di appetibilità tutto questo profilo e diciamo che la mafia riesce a creare condizioni assai prossime a quella di un regime economico di tipo monopolistico cerca di accaparrarsi tutti i settori in cui poi può imporre questo modello che poi è il modello provinzano per esempio nel settore dei pubblici appalti oggi non abbiamo la prova che ci sia un sistema di distribuzione centralizzato come quello del tavolino descritto da Sino negli anni 90 distribuzione centralizzata degli appalti però non c'è dubbio che ci sono cordate di imprenditori che si mettono necessariamente d'accordo perché c'è un capo cordata che gode della protezione di un mafioso che evidentemente ha investito i soldi perché quello è un prestannome di capitali mafiosi e che fa rispettare poi le aggiudicazioni non si spiegherebbe come mai Provenzano raccomanda tante imprese nei suoi pizzini per l'aggiudicazione di appalti se fosse il sistema totalmente fuori cioè la raccomandazione di Provenzano fa sì che si opera per far aggiudicare l'appalto a una certa ditta andiamo a constatare poi che la ditta effettivamente ha ricevuto l'appalto procediamo contro la ditta però la Cassazione dice che il reato non c'è perché non riesce a cogliere elementi di reato nonostante fosse citato dal pizzino non è provato il comportamento vabbè facciamo perdere certe sentenze che non aiutano certamente e questo diciamo che è un fatto questo sistema Provenzano comporta che Cosa Nostra riesce a convincere ma credo che non sia solo una cosa di Cosa Nostra ma gli imprenditori a farsi portatori dell'esigenza di controllare la fase esecutiva dei lavori scegliendo i fornitori scegliendo i subappaltatori in oli a freddo secondo quelle che sono le indicazioni dell'associazione mafiosa e che viene così a gestire di fatto l'intera esecuzione delle opere con conseguente mortificazione delle imprese che invece si muovono apparentemente su un libero mercato cercando di sviluppare tecnologie e metodi concorrenziali ciò naturalmente con danni gravissimi per l'economia ma vedete il controllo di questo settore dell'economia ha un altro scopo non solo quello del profitto e ce lo ha chiarito un collaboratore di giustizia il quale ci ha detto che le imprese per il Provenzano sono di vitale importanza non solo da un punto di vista prettamente economico ciò che interessa al Provenzano è avere contatti con persone importanti avere queste persone nelle mani una terminologia tipica significa raggiungere determinati obiettivi anche lontani anche inimmaginabili perché ogni impresa poi ha le sue conoscenze e sfruttando queste imprese queste conoscenze si ha un potere nelle mani molto ma molto importante quindi le imprese come tramite tra la mafia e tutto il resto della società civile e quindi è un momento essenziale questo per questa organizzazione per avere questo connubio di ricchezza e potere che costituisce la vera ragion d'essere della criminalità organizzata altrettanto chiaro è questo modo di gestire il rapporto con l'impresa in un'altra conversazione intercettata all'interno di un'autovettura tra l'imprenditore e il di lui cognato in poche battute questa conferma l'importanza per Cosa Nostra di acquisire tramite le imprese rapporti e relazioni con altri esponenti della società l'imprenditore riferendosi agli uomini di Cosa Nostra definiti gli amici a proposito agli amici Cosa Nostra usa dei termini che di per sé che già sono assolutamente positivi pensate che per indicare la cosca mafiosa si ne ha la famiglia che è il nucleo centrale della nostra società poi parla di rispetto parla di onore tutte cose che teoricamente sono però l'uomo di rispetto diventa un'altra cosa poi amico l'amicizia è certamente un fatto positivo si fonda sulla solidarietà eccetera eccetera però amico degli amici poi diventa una cosa negativa quindi vedete come diciamo nella terminologia mafiosa si è curato anche questo di contrabbandare attraverso questi termini nella popolazione ignorante anche dei termini che invece sono sono culturalmente accettati dalla cultura popolare e quando dice rispetto e onore e amicizia scusate ma quella è un'organizzazione che ha queste parole e salvo poi nel rispetto e l'onore e l'amicizia a fare le cose più terribili in questo mondo e ammazzare le persone a proposito su un aneddoto che non c'entra niente ma mi vengono così parlando io a uno collaboratore che aveva confessato un centinaio di omicidi e che si dichiarava religioso cattolico dicevo scusi ma mi chiarisce questo arcano io non capisco come lei possa dire così signor giudice lei giuro dice guardi io non ho commesso nessun nessun omicidio per motivi personali quindi Dio lo sa che sempre mi hanno detto di andarlo a fare quindi una auto giustificazione naturalmente risibile ma che dà la mentalità mafiosa come quasi una forma di sudditanza anche psicologica dalla quale gli associati è difficile che escano ma come siamo arrivati non lo so ma se parlavamo di amici ecco devo ancora dire la intercettazione l'imprenditore che si riferisce agli uomini cosa nostra definendo gli amici e afferma dice da prima questi raccolgono i frutti derivanti dalla nostra attività cioè il pizzo la tangente ma soprattutto io vengo utilizzato da loro per il favore giustamente ci interessa avvalersi di me che mi possono muovere io che ho entrate dappertutto questo conferma il discorso dell'imprenditore che serve come tramite per agganciare gli interessi di tutte le altre componenti sociali allora se abbiamo tutti questi elementi che ci derivano dalle indagini lasciamo stare alla responsabilità non alla responsabilità io penso che su questi bisogna costruire le strategie per poter affrontare il fenomeno strategie che non possono certamente essere repressive io ricordo che sono stato giudice alata del maxiprocesso avevo contribuito come giudice di una corte d'assise a condannare alcuni soggetti che erano dei soldati cioè la parte di base dell'organizzazione mafiosa quando diventai procuratore a Palermo nel corso di un'operazione riconobbi questi due che erano di nuovo arrestati nell'ambito di un blitz antimafia e erano diventati reggenti di una famiglia mafiosa quindi erano stati condannati avevano scontato erano usciti hanno fatto buona condotta in carcere sia da un punto di vista dell'ordinamento penitenziario sia dal fatto che non avevano mai accusato nessuno e avevano avuto debolezze di questo genere quindi tornati erano stati premiati e erano inseriti stavolta come reggenti cioè nell'attività dirigenziale di una cosca mafiosa di una famiglia di un mandamento e quindi ma la cosa è carina è che io li ho incrociato uno mentre mi trovavo al carcere e allora un po' sfotto e gli dico eh abbiamo fatto carriera è vero sì io sì ma lei pure devo dire che ha avuto una risposta prontissima anche perché bisogna dire che tra questi mafiosi poi ci sono persone anche che se fossero eh indirizzate verso attività legali e lecite riuscirebbero sicuramente perché eh sono una criminalità superiore non è non è una va bene allora cerchiamo di concludere perché veramente qua la mostra e allora quindi le imprese mafiose hanno tutti questi privilegi che sono le situazioni di monopolio l'assenza di conflittualità sindacale l'utilizzazione di risorse finanziarie di provenienza illecita e quindi a costo zero la attenuazione sullo sotto forma di sconti per esempio pure delle estorsioni la costante violazione delle norme previdenziali antinfortunistiche nei confronti dei lavoratori la pratica di prezzi assolutamente competitivi che rovinano la concorrenza e le espellono il commerciante onesto dal mercato l'imprenditore onesto infine hanno un altro mezzo cioè quando la cosa non va come dicono loro ricorrono all'intimidazione alla violenza o talvolta anche alla corruzione quindi diciamo che hanno questi mezzi in più che un imprenditore onesto non si sognerebbe mai di utilizzare e di meno i concorrenti prima la macchina poi l'incendio là poi la telefonata io so dove va tuo figlio a scuola tutte queste cose terrificanti che veramente la mafia è invisibile fuori ma è visibilissima e si sente sulla propria pelle per chi sta in questi territori che subisce continuamente queste intimidazioni queste violazioni queste privazioni della libertà perché questo è la mafia è contro questa privazione di libertà che dobbiamo combattere e quindi io come magistrato dico che la magistratura ha sempre fatto e cercato di fare il massimo dando tutto quello che poteva in collaborazione con le forze dell'ordine ben consapevole che appena si allenta la presa la morsa della repressione il nemico riconquista le posizioni perdute beh io penso di non avere mai mollato nemmeno psicologicamente e così tanti miei colleghi pur con alterne vicende fortune errori successi insuccessi c'è la testimonianza di un impegno di un esempio che possa far guardare alla magistratura come un preciso e visibile punto di riferimento nel contrasto alla mafia del resto Buscetta a Falcone diceva il signor giudice ci prenderanno per pazzo o ci uccideranno per quello che stiamo facendo cioè lui aveva aperto per primo le casseforti dei segreti della mafia ci ha fatto capire veramente cos'era questa organizzazione e la risposta di Falcone fu non importa ci saranno altri magistrati che continueranno e noi siamo qua grazie grazie a tutti 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 al centro culturale a Busuan ci aspettano per l'inaugurazione del centro multimediale quindi a domani mattina e siamo tutti invitati grazie a tutti grazie a tutti